Allora direi che possiamo cominciare, buonasera a tutti, buonasera a Barbara Carnevali, benvenuta seppure solo virtualmente all'Università di Pisa e buonasera Raffaele Donnarumma e naturalmente a tutti coloro che si sono collegati, collegate oggi pomeriggio. Sono contenta di poter moderare questo incontro di oggi e prima di introdurlo voglio presentare i nostri due speaker, anzitutto presento Barbara Carnevali che come ho annunciato ai miei studenti è una filosofa, cosa che però non li deve intimorire, spaventare, parleremo di tante cose oggi pomeriggio, è una filosofa che insegna appunto filosofia all'Ecole des hautes études anciennes sociales di Parigi, si è occupata largamente di rapporti tra estetica, società, politica, quella branca che si chiama estetica sociale, voglio ricordare tra i suoi libri, i suoi lavori, almeno il libro su Rousseau Romanticismo e riconoscimento e poi il suo libro molto importante uscito nel 2012, le apparenze sociali, una filosofia del prestigio che ha ricevuto recentemente una prestigiosa traduzione in inglese presso Columbia University Press, Social Appearances, Philosophy of Display and Prestige. E poi voglio ricordare che Barbara Carnevali fa parte del comitato scientifico, una edizione pubblica molto importante, la cui ultima edizione si è chiusa proprio da pochi giorni, il Festival Filosofia di Modena Carpi Sassuolo, a cui tra l'altro Barbara ha partecipato appunto attivamente, magari avete sentito qualcosa anche alla radio, credo che siano passate delle conferenze, delle interviste. Raffaele Donnarumma, i nostri studenti lo conoscono bene, insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa, ecco, direttore della rivista Allegoria, si è occupato ampiamente di letteratura non solo italiana, del ventesimo e del ventunesimo secolo. Oltre alle pubblicazioni numerose su alcuni dei suoi autori, Gadda, Calvino, Pasolini, Morante, voglio ricordare, e molti altri ovviamente, voglio ricordare un suo libro fortunato e molto discusso, uscito nel 2014, se non sbaglio, Ipermodernità dove va la narrativa contemporanea. Solo qualche osservazione iniziale giusto per rompere il ghiaccio, poi passerò la parola a Raffaele e Barbara. Nel preparare la discussione di oggi appunto con Barbara e Raffaele ci siamo resi conto che la questione che probabilmente ci stava più a cuore era quella di tentare di definire o di mettere a fuoco meglio come e perché nel contesto attuale la nozione di autonomia estetica sia diventata qualcosa di, non di liberatorio, ma di limitante, forse insufficiente per discutere molti dei fenomeni artistici, forse non solo artistici, della contemporaneità. Dobbiamo partire anzitutto da un'evidenza che fin troppo spesso viene dimenticata, cioè che si tratta di una nozione che ha precise radici storiche, non è una conquista che l'umanità moderna, adulta, raggiunge a un certo punto lasciandosi alle spalle una sorta di età infantile o giovanile in cui si facevano gli usi più vari, più promiscui della letteratura e dell'arte, ma è una nozione che ha precise radici storiche nelle categorie fondamentali della cultura romantica e poi modernista. In un certo senso possiamo dire, su questo ne convenivamo, che siamo ancora dentro quelle categorie culturali e però al tempo stesso le pressioni, le frustrazioni, il rifiuto di fronte all'idea che l'arte sia una sfera separata, dentro cui tutto è ammesso e ammissibile, sono diventate crescenti e dobbiamo prestargli attenzione, non le possiamo snobbisticamente ignorare. È una questione che come molte altre nella contemporaneità si è polarizzata e questa discussione ormai polarizzata in un certo senso ci ha fatto perdere di vista l'idea che usi e pratiche non autonome della letteratura e dell'arte sono continuate per tutto il XIX e XX secolo nelle forme più varie e nonostante questo interdetto simbolico. Senza poi contare il fatto che comunque quello che Virginia Woolf chiamava il cosiddetto common reader, il lettore comune che non è lo scrittore, non è lo studioso, non è l'addetto ai lavori, ha continuato a leggere romanzi, racconti, perché poi ovviamente soprattutto di letteratura narrativa stiamo parlando facendone gli usi più personali, pratici, emotivi, non so, emozionandosi o misurando sui libri le proprie idee di che cosa è bene, che cosa è male, di che cos'è la legge, la giustizia, l'ingiustizia, l'umano, l'animale, l'universale. Tutto questo appunto senza che questo grande interdetto simbolico avesse alcun effetto. Ora dicevo prima appunto una questione che si è polarizzata in che modo? Da una parte mi sembra che potrei sintetizzare, forse semplificare un po', ma la discussione di oggi serve a appunto mettere complessità a questa semplificazione. Da una parte che abbiamo chi rivendica oggi, sinceramente forse con qualche stanchezza, la separatezza dell'esperienza estetica e spesso appunto si confina in una sorta di recinto, ma forse potremmo chiamarlo un parco giochi o kindergarten a maneggiare con cinismo talvolta temi sensibili e con intenti che forse alla fine risultano dissacratori, ma in una maniera un po' malinconica, passata, non più cruciale. E dall'altro lato quel campo, che poi non è neanche un campo, ma insomma quell'insieme di posizioni bollate, stigmatizzate come espressioni di correttezza politica o richiami al politicamente corretto, quindi un recinto dentro cui in realtà stanno cose molto diverse, rivendicazioni politiche, identitarie, ma insomma in realtà anche posizioni trasversali piuttosto irriverenti e in generale mi viene da dire il diritto di leggere avendo in mente non soltanto la domanda che cosa significa un libro in termini anche diciamo estetici, ma che cosa fa un libro a chi lo sta leggendo, che effetto pratico ha quel testo su chi lo legge. La discussione di oggi prende spunto da un numero monografico della rivista Allegoria, il fascicolo 80, che è uscito nel 2019, è stato curato appunto da Raffaele Donnarumma, si intitola I moralisti, narrativa contemporanea ed etica e partirei proprio da qui, da questa parola immoralisti e immoralismo che è richiamata anche nel titolo del seminario di oggi. Per cui darei subito la parola a Raffaele e gli chiederei di partire da qui, chi sono gli immoralisti, che posizione occupano nel campo della produzione artistica e letteraria contemporanea? Prego. Grazie Cristina. Sì, la sezione di Allegoria che Cristina Savettiere ricordava si occupa in realtà di un fenomeno numericamente abbastanza marginale, ma simbolicamente piuttosto rilevante. Gli scrittori di cui ci siamo interessati sono scrittori che assumono deliberatamente delle posizioni provocatorie rispetto al comune sentire morale, una categoria molto scivolosa e molto problematica, perché in una cultura come la nostra è difficile capire che cosa sia il comune sentire morale, visto che siamo agitati da forze così diverse. Però questi scrittori in maniera palese e deliberata assumono una posizione di contestazione, di scandalo e sono quasi tutti scrittori che hanno suscitato dei casi letterari. In particolare ci siamo soffermati su tre scrittori, su Bratis Tonellis, il cui American Psycho ha suscitato molte contestazioni, visto che ha una rappresentazione della sessualità e in particolare della femminilità particolarmente violenta e offensiva. Houellebecq, che in Francia ha assunto posizioni molto contestate per quanto riguarda la sua sensibilità nei confronti dell'altro religioso, o ancora una volta della situazione e della posizione delle donne, e in Italia Walter City. Tra l'altro dopo che questo numero è stato confezionato sono usciti altri libri che vanno nella stessa direzione, anzitutto di questi stessi autori, perché City dopo l'uscita di questo numero ha pubblicato Contro l'impegno, che è un po' un manifesto dell'immoralismo letterario. Ma è uscito anche in Italia un libro importante e molto perturbante di Giulio Mozzi, Le ripetizioni, che può essere messo in questa chiave. Il problema non è semplicemente che questi autori affrontano temi sconvenienti. Potremmo citare per esempio anche, come un altro esempio prossimo, Le Benevole di Jonathan Bittell, che è uno straordinario romanzo che è stato molto discusso. In genere questi romanzi assumono temi molto discussi nel dibattito pubblico, anzi da un certo punto di vista sembrano assumere temi un po' troppo di moda nel dibattito pubblico, e non è quindi la cosa che affrontano fare scandalo, ma è il modo in cui ne parlano. Per esempio il problema delle Benevole è che raccontando la Shoah, la distruzione degli ebrei d'Europa, Littel cede la parola a Maximilian Aue, che è un membro delle SS, che è un operatore dello sterminio. Peraltro un operatore dello sterminio non pentito di quello che ha fatto, anzi uno che ha la scappata bella, perché si è riparato in Svizzera dove si mette a produrre termine. Il problema di alcuni romanzi di siti è che dà la voce al male dal punto di vista di chi lo commette. Quindi in Resistere non serve a niente la malavita è contata da un affarista, da un broker, che è dentro la malavita. In Bruciare Tutto, peggio che intanto di notte, viene raccontato uno dei temi più abusati nella comunicazione mediatica in Italia negli ultimi anni, cioè la pedofilia, e in particolare la pedofilia esercitata da religiosi. Quello che siti assume il punto di vista di un sacerdote, non leo, che è reo di questo crimine. Welbeck assume deliberatamente posizioni scandalose, dando voce a queste posizioni. Quindi il problema di questi autori non è tanto la cosa di cui parlano, perché la cosa di cui parlano è nel dibattito pubblico, ma il punto di vista con cui ne parlano. E quello che fanno non è banalmente propagandare il male, che sarebbe una posizione molto grossolana e che si smonterebbe da sé, però è una posizione molto a sé in questo dibattito, perché palesemente il suo libro comunica una profonda inquietudine nei confronti della Shoah, e per quanto il protagonista narratore non sia pentito, tuttavia il male che compie trabocca su di lui e in qualche modo lascia dei segni molto violenti. Non sempre è così negli altri romanzi che citavo. Il problema è che piuttosto che fare una propaganda del male, questi libri in qualche modo inibiscono la possibilità del giudizio, cioè fanno sembrare troppo semplice, persino un po' stupido, difendere i valori morali del vestito comune. Allora, quali sono i problemi che più in generale questi libri pongono e con cui vorrei discutere con Barbara Carnevali. Il primo è proprio questo, è quello che è un problema che ha attraversato la cultura occidentale sin dalle origini, sin da Platone, cioè quello del rapporto tra letteratura e morale. Ci sono molti modi ovviamente di cercare di accostare e di far interagire letteratura e filosofia. Il campo della morale è quello secondo me più produttivo, perché effettivamente da questo punto di vista letteratura e filosofia parlano della stessa cosa, anche se ne parlano in modo diverso. Allora, mi impressione che questi scrittori, per cercare un po' di affrontare questo primo punto, affrontino il problema del rapporto tra letteratura e morale, anzitutto è contrario, cioè anziché propagandarti il bene, come per secoli la letteratura ha fatto, perché questo è stato per secoli il compito che gli scrittori sono dati, dire qualcosa di utile alla vita, magari mescolandolo al dolce con il segno razio, ma dire qualche cosa che serve alla vita. Questa è la regola della letteratura, non solo occidentale. Questo campo di scrittori si presenta come eccezionale e contesta radicalmente questo assunto, ma lo contesta, secondo me, in modo dialettico, perché rovescia la frittata, un po' bruciandola, c'è da dire, ma ovviamente a questi scrittori il bruciato e la puzza di risolfo, come potete capire, piace parecchio, ma in questo modo, proprio nel momento in cui rivendicano appunto l'autonomia della letteratura, anzitutto di fronte alla morale, non sanno che esercitarla come un rovesciamento di quella che viene sentita come la morale pubblica. Allora volevo chiedere a Barbara come lei da filosofa affronta questo problema e qual è la sua sensibilità rispetto a questo tema. Grazie mille per le due presentazioni e per l'assist per cominciare questa riflessione. Dico subito alle persone presenti che da un lato io ho una grande passione di lettrice, quindi rifletto su queste cose da lettore comune e quindi faccio un po' come descriveva Cristina, cioè mi sono sempre emozionata, appassionata, identificata, in particolare con la narrativa che è il genere con cui sono più familiare e quindi appunto in un certo senso il tipo di domande che mi pongo sono quelle del non addetto ai lavori, che non è né scrittore, quindi ha una poetica da difendere, e non dimentichiamo che molte delle persone che intervengono in questi dibattiti spesso sono scrittori che appunto hanno una poetica e allora lì si capisce effettivamente come è sempre successo, tutti i manifesti sono sempre piuttosto netti e poco caritatevoli con gli avversari perché c'è il bisogno di posizionarsi e di difendere anche la propria visione del mondo. Il lettore da questo punto di vista è facilitato perché può permettersi, come diceva Adorno, di farsi piacere cose che si escludono a vicenda. Adorno faceva l'esempio di Joyce Di Proust, ma metteteci anche Kafka, cioè nel nostro canone personale di lettori appassionati possono esserci scrittori che si sarebbero detestati individualmente, ma in particolare proprio il tipo di scrittura e di visione del mondo che difendevano. E questo secondo me è la forza del lettore, è quella di effettivamente di porsi delle domande più sfumate e che cercano di rendere più giustizia alla letteratura dal punto di vista non soltanto appunto del produttore che ha bisogno di schierarsi. L'altro mio punto di vista che è complementare a questo per le ragioni che poi cercherò di spiegarvi è quello diciamo del mio mestiere che è di fare filosofia e che diciamo ha una tendenza disdicevole a problematizzare, a rendere i problemi più complicati di quanto sembrino. Quindi non vorrei che con le mie considerazioni vi lasciassi più, non più confusi. Quello spero di portare chiarezza ma comunque di avervi dato ulteriori, di avere creato ulteriori domande. Allora, forse la cosa più semplice è cominciare da una corrente contemporanea di cui nell'introduzione al numero di allegoria parla Raffaele Donnarumma ricordando appunto che dal punto di vista della filosofia, della produzione filosofica a partire dagli anni Ottanta curioso anche che sia una sorta di reazione bisogna sempre chiedersi perché le cose nascono in un certo periodo e vanno a flusso a partire dagli anni Ottanta quindi in reazione al periodo diciamo quando si sviluppa la letteratura postmoderna paradossalmente quando si è esaurita dalla parte più degli specialisti della letteratura alla fase semiotico-formalistica ci sono delle lettrici in particolare filosofi perché si tratta in gran parte di donne che oggi vengono raccolte sotto la categoria di ethical turn il tornante etico si potrebbe dire la svolta etica della filosofia della letteratura incarnate sicuramente conoscerete la più famosa che è molto brava che è Marta Nuttam che è stata più tradotta in italiano ma vi ricordo anche le altre sono Cora Daimon che è una filosofa di ispirazione bitkensteiniana e ancora prima c'era stata Iris Mardock che è una filosofa analitica platonica molto interessata al problema del bene che è sempre stata la sua ossessione filosofica comunque insomma queste tre filosofe e io parlerò soprattutto di Marta Nuttam che è la più paradigmatica hanno cominciato a rivendicare la legittimità di una lettura e morale della letteratura etica all'insegna di quello che in filosofia si definisce la corrente del perfezionismo morale questo vi diciamo vi illustro di che cosa si tratta perché è importante per capire poi bene anche alcuni dei malintesi che sono nati nel dibattito il perfezionismo è una corrente che come dice la parola stessa tra l'altro di ispirazione liberale quindi molto incentrata sull'individuo e la sua domanda di vita buona come devo vivere crede nella possibilità di un perfezionamento continuo dato da un rapporto tra riflessività e autocorrezione diciamo attraverso la riflessione sull'esperienza e in particolare la riflessione sulla letteratura quindi che viene considerata quindi come una sorta di campo su cui ci si esercita e ci si corregge e si cerca di migliorare la propria visione della vita della vita buona eccetera a questa corrente vorrei anche aggiungere una figura che viene meno evocata spesso nel dibattito italiano ma che è importante non tanto perché si tratta anche di un uomo perché in fondo in questa diciamo triade di donne ci si potrebbe subito domandare è interessante perché è un tipo di questione riflessiva è strano che siano le donne a rivendicare la lettura morale insomma forse perché hanno una visione diciamo per abitus più relazionale più attenta alle questioni legate alla cura al bene eccetera comunque la domanda resta aperta l'aveva però già posta un filosofo che si chiama Stanley Cavella anche lui di ispirazione wittgensteiniana quindi vedete che ci sono delle famiglie poi più o meno coerenti che aveva insegnato a lungo ad Harvard tra l'altro conosceva Martha Nussbaum e lavoravano insieme e in particolare ha dedicato alcuni scritti importanti tradotti in Italia dai naudi a Shakespeare al teatro di Shakespeare alla questione di quello che lui chiama il riconoscimento ma le sue cose più belle probabilmente sono state le sue letture morali del cinema in particolare un libro che si chiama La ricerca della felicità in cui interpreta la commedia hollywoodiana alla Lubitsch e comunque tutta una serie di commedie che si ritrovano sul tema del secondo matrimonio con la stessa persona che si è già sposata la prima volta comunque questo per dirvi che c'è una chiaramente una corrente angloamericana che ha rivendicato senza farsi troppi scrupoli qualche cosa che per la nostra mentalità di critici e lettori europei era uscito dall'ambito come diceva Cristina del dicibile a noi sembra un atteggiamento quasi infantile quello di rivendicare questo tipo di lettura di porsi addirittura alla questione di si può diventare migliori leggendo o la letteratura ci pone a delle questioni morali ecco in questo fenomeno come vi dicevo ci sono vari aspetti da storicizzare da un lato il fatto che per esempio la cultura angloamericana ha sempre da sempre avuto un rapporto con la morale molto più diretto e più facile del nostro probabilmente perché è una cultura protestante fondata di fatto sul testo per eccellenza che è la Bibbia in cui anche i grandi romanzieri non hanno mai avuto paura penso a Melville di affrontare diciamo allegorie del bene e del male in maniera molto diretta e in cui comunque lo posso dire perché ho vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti diciamo c'è un atteggiamento molto meno cinico o scettico di quanto possono avere delle culture storicistiche come la nostra nei confronti del posizionamento morale nei confronti delle cose la religione eccetera e quindi diciamo non stupisce che siano filosofi che vengono da questa tradizione a rivandicare questo tipo di lettura quindi c'è un aspetto anche diciamo culturale di cui tenere sociologico di cui tenere conto ma ecco perché è interessante perché il lettore europeo anche comune e in particolare il lettore specialista come possono essere anche degli studenti di letteratura dell'università si sente un po' urtato da questa rivendicazione perché appunto come diceva Cristina ci sembra regressiva sembra un atteggiamento infantile e perché rompe in maniera molto diretta con non un tabù ma comunque uno di quelli che sono considerati come i presupposti della nascita del grande racconto o regime potremmo dire per usare una metafora che tiene insieme l'idea di un punto di un sistema che tiene insieme valori di tipo diverso di tipo morale ma di tipo anche per certi aspetti politico istituzionale che è il regime dell'autonomia dell'arte noi tutti siamo stati educati all'interno di questo senso comune potremmo dire che cosa vuole il regime dell'autonomia dell'arte vuole che a partire dalla fine del settecento poi più o meno poi si possono ovviamente considerare a seconda delle discipline delle date dei momenti di rottura di solito in filosofia agnistetica si dice che con Kant che comincia la definizione del problema comunque la sfera estetica e quindi anche l'arte che le appartiene comincia a rivendicare la legittimità di una sua logica propria cioè bisogna giudicare le esperienze estetiche le opere e le opere d'arte non secondo criteri eteronomi cioè che vengono da altre sfere disciplinari adesso vi spiegherò anche questo strano modo di ragionare da che cosa proviene ma bisogna giudicare just a propria principia secondo i propri principi in questo caso estetici e artistici detto in parole molto semplici ma in modo molto semplificatorio il bello va giudicato come appunto le opere d'arte riguardano il bello e vanno giudicate quindi con criteri estetici il bello il brutto oppure tutte le categorie estetiche che conosciamo che sono state prodotte dalla tradizione e non in particolare con criteri relativi alla morale quindi non con il bene nel male e aggiungerei perché spesso questo tema viene dimenticato ma importante la terza grande sfera che nell'antichità invece veniva considerata insieme alla sfera estetica e alla sfera morale che era quella della verità quindi in teoria l'autonomia il regime estetico dell'arte richiederebbe anche di non rivendicare che la letteratura o un'opera d'arte abbia qualcosa direttamente a che fare con il vero inteso come la verità scientifica come la descrizione del mondo eccetera quindi questa rivendicazione di autonomia che fa parte di un processo che riguarda tutta la modernità vi ricordo che i grandi interpreti della modernità come Weber o Simmel hanno proprio definito il rapporto moderno con la conoscenza come un autonomizzarsi progressivo di singole sfere tutti conosciamo il grande racconto Machiavelli l'autonomia della politica cioè la politica da questo momento non si giudica con criteri morali o con criteri religiosi ma richiede diciamo una sua appunto una riflessione sui criteri che fanno della politica la stessa cosa della scienza che si è autonomizzata dalla religione la stessa cosa per le singole discipline scientifiche perché questo è un processo che poi ha dato origine non soltanto alle facoltà universitarie in cui noi ci troviamo a studiare che in fondo ognuna rivendica la sua autonomia rispetto alle altre ma anche alla divisione del sapere e alla enorme specializzazione in cui ci siamo in cui ci troviamo immersi quindi il processo l'autonomia dell'arte l'autonomia dell'estetica si inserisce in una qualche cosa molto più vasto che ha a che fare con l'evoluzione della modernità in sé e spesso come succede ai racconti della modernità come ricordava Cristina viene accompagnato con un giudizio con un segno più cioè si pensa che questa conquista di autonomia sia coincisa di fatto con l'illuminismo con una forma di progresso il che indubbiamente è vero se si pensa a posteriori a quante emancipazioni ha permesso effettivamente all'arte sui temi il dicibile che cosa può essere effettivamente messo a tema nelle opere d'arte che cosa può essere detto chi può essere un artista e qual è il ruolo dell'arte addirittura all'interno della società però allo stesso tempo ha lasciato dietro qualche cosa come era inevitabile in particolare questo diciamo rapporto più fluido e più di interconnessione con le sfere della verità e della morale che soprattutto nelle sue visioni più caricaturali perché oggi stiamo parlando in realtà soprattutto di rivendicazioni che prendono questa autonomia in una maniera polemica e a tratti quasi ingenua appunto hanno lasciato dietro quello che per secoli era stata l'esperienza comune non solo dei lettori ma anche degli scrittori dunque allora intanto volevo dire una cosa nella corrente dell'Ethical CERN c'è sicuramente qualche cosa di insufficiente o comunque che giustifica la polemica che queste posizioni hanno suscitato e che è per esempio nel fatto che Martha Nussbaum per citare come vi dicevo la più celebre la più conosciuta sostiene con una certa diciamo tendenza edificante che effettivamente leggere tanti romanzi banalmente arricchisce la nostra esperienza perché ci fa conoscere tanti punti di vista la vita degli esclusi per esempio che noi non conoscevamo direttamente ci fa vedere il mondo dagli occhi di qualcuno che noi non siamo e su questo direi diciamo non siamo tutti d'accordo e poi però ne trae immediatamente la conclusione che dopo aver letto tutta questa bella roba si diventa migliori perché automaticamente si è empatizzato con gli esclusi diciamo che Martha Nussbaum resta legata un po' a Dickens come suo tipo di modello narrativo cioè si legge una storia con della povera Jane o i miserabili di Hugo e poi immediatamente si esce trasformati da questa lettura perché chiaramente vedere la rappresentata la sofferenza degli umili tocca le nostre corde più sensibili e qui in realtà noi lettori anche comuni sappiamo benissimo che quello che succede spesso è il contrario e che l'identificazione letteraria è un fenomeno molto complesso e ci si può tranquillamente identificare con il malvagio che poi è il gioco diciamo che ci propone in maniera straniata Little per esempio quando ci dice vi faccio vedere che addirittura è possibile identificarsi con un nazista operazione che tra l'altro non necessariamente immorale perché si potrebbe anche giustificarla dicendo proprio perché quando sperisci il mondo dal punto di vista del malvagio te ne puoi vergognare puoi vedere che anche tu hai delle diciamo delle tendenze in questa direzione puoi prendere le distanze dal tuo lato scuro quindi anche in questo caso appunto le cose sono più sono più complesse quindi per concludere il perfezionismo no perché è un po' riduttivo esattamente come è riduttiva la visione degli immoralisti che semplicemente si limitano a capovolgerlo io direi che noi vi dimostriamo al contrario che la letteratura è scritta dal punto di vista dei cattivi addirittura vi può rendere un po' cattivi anche voi o comunque vi può diciamo provocare da questo punto di vista allora questo è un po' lo status questionis dal punto di vista filosofico io vi posso dire come imposterei io le cose avendoci pensato e avendo cercato anche delle a un certo punto di andare ancora più alla radice del tornante etico e cercando diciamo di fondare la questione del rapporto letteratura e morale dal punto di vista antropologico dell'antropologia filosofica ossia non soltanto dal punto di vista di chi si interroga su come vivere bene come comportarsi con gli altri qual è la vita buona il filosofo morale ma di qualcuno che si interroga su che cos'è la condizione umana in modo più ampio quali sono i tratti comuni se è possibile definirni di molto molto formali e generali che accomunano l'esperienza della umana e che ruolo ha la letteratura all'interno di questo quadro formale ecco e questa è la pista che vi propongo ve la racconto brevemente e io mi ispiro molto all'antropologia filosofica tedesca che è una corrente che ha avuto origine negli anni più o meno in contemporanea ad Heidegger negli anni 30 del novecento e che poi ultimamente è stata sviluppata in maniera molto profonda a me piace molto per esempio da un grande filosofo che si chiama Hans Blumenberg che ha passato praticamente tutta la sua vita a riflettere sul modo in cui la letteratura il mito la metafora tutte quelle che lui chiama le forme dell'inconcettuale cioè le forme potremmo dire di conoscenza o di riflessività sulla natura umana e sull'esperienza umana che non passano attraverso il concetto discorsivo quindi quello che in teoria non è filosofico ma che completa o che si accosta alla filosofia Blumenberg sostiene questo e io lo condivido e lo ridico con parole mie più semplici gli esseri umani sono esseri autointerpretanti cioè non vengono al mondo con il libretto della distruzione di come vivere hanno un problema di senso nei confronti dell'ambiente e della loro esperienza che viene in parte dalla cultura all'interno di cui si trovano ma anche da domande che si pongono in maniera sempre più diciamo intensiva nella modernità dove il singolo si sgancia dalla diciamo dall'appartenenza culturale rigida diventa più riflessivo cioè più capace di riflettere di mettere in discussione i fondamenti della propria esistenza e quindi gli esseri umani sono esseri autointerpretanti e producono cultura usiamo questa parola larga e quindi per esempio filosofia ma anche letteratura anche mito anche scienza opere d'arte le quali hanno ognuna a suo modo Cassire parlava della filosofia delle forme simboliche dicendo una cosa simile cioè che ognuno di questi campi ha una sua logica e una sua forma di accesso alla tra virgolette verità comunque ognuna ci sono tante forme tante forme simboliche attraverso cui quest'autointerpretazione si compie e la letteratura è una delle privilegiate tra queste è una delle forme privilegiate perché tra l'altro ha tutta una serie di come dire di forze dal suo punto di vista che sono per esempio rispetto alla filosofia che tende all'astrazione alla negazione dell'individualità perché cerca sempre l'universale il fatto che la letteratura è molto più aderente in modo fenomenologico descrive racconta rispetto all'individuale ti racconta delle singole storie prima di passare immediatamente all'astrazione del concetto che come ricordava sempre Adorno è qualcosa di violento in questa sua astrazione cioè perché comunque dimentica la pluralità e il fatto che la vita è fatta di conflitti e di cose che non sempre possono essere semplificate in maniera quindi la letteratura diventa una delle forme appunto più ricche di questo rapporto proprio allo specchio che l'umano ha nei confronti di se stesso in cui si pone delle domande tra cui per esempio ci sono le domande morali quindi in questa fondazione diciamo che vi propongo la morale è ovviamente una delle sfere che vengono evocate una delle dimensioni dell'esperienza che vengono evocate di cui la letteratura grazie proprio a questa sua prossimità alla vita diventa un inevitabile come dire ecco quindi non è come dire in questo modo non si attribuisce alla letteratura il compito di fare da come dire di trasmettere un insegnamento morale come se fosse semplicemente un medium che deve veicolare un messaggio ma di essere una forma di autointerpretazione in cui quasi tutti noi leggendo un romanzo leggendo una poesia e leggendo la narrativa sono portati a porsi delle domande che poi sono relative più o meno alla loro condizione alla loro esperienza particolare allora in questo modo come vi dicevo appunto viene la teoria dell'inconcettuale e della letteratura intesa come una forma di autointerpretazione della condizione umana e dei problemi della condizione umana intanto arriva a collaborare con la filosofia quindi per esempio questa posizione che difendo è molto lontana a quelle posizioni un po' saccenti che sono state poi dopo esemplificate in maniera esemplare per esempio da Hegel che pensavano che tra le discipline tra queste forme simboliche ci fosse una gerarchia e che quella superiore fosse il concetto la filosofia discorsiva perché era quella che era capace di dare le ragioni e di spiegare quello che le altre discipline non sono capaci di spiegare detto banalmente la filosofia secondo questa concezione sarebbe capace di dire che cosa un romanzo voleva veramente dire di dirlo in maniera più breve e più concisa il che rende a un certo punto la letteratura stessa inutile e non a caso infatti è dalla filosofia hegeliana che è nato il problema della morte dell'arte cioè se il concetto e se il discorso è superiore alla letteratura e all'arte a un certo punto non c'è più quando siamo diciamo diventati grandi e non siamo più bambini che hanno bisogno di storielle per raccontarsi non abbiamo neanche più bisogno di leggerle e quindi possiamo buttarle via invece questa posizione antropologica è molto più dialogante perché vede queste forme diverse di sapere o di forme simboliche come complementari ognuna vede a suo modo e ognuna vede qualche cosa che le altre non vedono e secondo me questa spiegazione non solo rende giustizia per esempio alla mia esperienza personale della letteratura io ero indecisa se fare letterofilosofia ma non perché e ho scelto filosofia per una ragione unicamente che ritenevo più difficile continuare a fare la seconda cosa facendo letteratura ma ho sempre pensato che fossero complementari e spesso diciamo ho rimpianto di non avere fatto l'altra di non avere fatto l'altra scelta ma per esempio vi ricordo un libro che a me è piaciuto molto perché vi ritrovo proprio questa questa idea che è il libro che il filosofo francese Vincent de Combe ha dedicato a Proust che si chiama Filosofia del romanzo e che esemplifica perfettamente quest'idea pur non citandola mai diciamo non si rifa all'antropologia filosofica de Combe dice questo dice Proust certo che ha scritto un romanzo filosofico ma non nel senso che è un romanzo saggio cioè di cui potremmo prendere le opinioni staccarle dal contenuto dalla forma come se fossero una come se fosse una pepita dalla ganga e poi buttare via la forma dicendo che in fondo quello che ci interessava era il messaggio filosofico comunicato da Proust Proust ha scritto una filosofia del romanzo in senso soggettivo cioè il romanzo che ha una sua filosofia e questo lo dimostra il fatto che lui all'inizio voleva scrivere un saggio il Contro Saint-Beuve e poi a un certo punto si è reso conto che poteva scrivere quello che voleva e il Contro Saint-Beuve come sapete comincia con la conversione finale con la conversione alla letteratura quindi se quello fosse stato il contenuto da veicolare sarebbe bastato quello decide invece di scrivere un romanzo perché in realtà è necessario a tutta quella parte di narrazione di allenazione nel sociale tutto il tempo perso alla ricerca dei Germanto degli amori non realizzati e non compiuti che in realtà secondo lui è la vera comprensione di quella dimensione della vita che la filosofia non capirà mai queste esperienze intersoggettive e che invece soltanto la narrazione può raccontare perché ci fa ce le mette davanti come uno specchio e ci costringe ad analizzarle quindi vedete che poi alla fine le due tradizioni diciamo fenomenologica Evit-Kesteynana che è quella di Delcombo si ritrovano ma a questo punto voglio ritornare alla questione morale e dire che allora questa concezione antropologica ha un vantaggio da un lato in un certo senso ritorna all'idea che il bene il bello e il vero cioè i tre grandi valori che secondo l'antichità classica diciamo o la nostra visione caricaturale dell'antichità andavano tutti insieme ma non li radica nella struttura ontologica del mondo cioè non dice che come Platone le idee sono vere sono buone e sono belle perché sono i principi di costruzione della realtà ma le radica nell'esperienza umana cioè nel fatto che la vita è fatta così cioè è fatta di un'intersezione di queste sfere cioè nessuna delle nostre esperienze conosce l'autonomia dell'arte così come non conosce l'autonomia della morale così come non conosce l'autonomia della conoscenza e quindi in un certo senso ritornando a questa radice indistinta noi inevitabilmente siamo portati a vedere le connessioni tra queste sfere senza negare il grande portato diciamo romantico dell'autonomia dell'arte che sicuramente fa parte del nostro modo storico di concepire di avvicinarci alla letteratura però c'è ecco appunto c'è anche una dimensione di base che resta costante in quanto noi comunque continuiamo a portare un certo tipo di esperienza e che è quella che in cui in un certo senso c'è ancora il bambino ecco il bambino continua a giocare continua a identificarsi continua a giudicare i libri non soltanto con le categorie appunto del giudizio formale gusto estetico eccetera e poi c'è un'altra cosa che forse e con questa chiudo che è ancora più importante secondo me è che uno dei presupposti più interessanti dell'antropologia filosofica è l'idea che l'esperienza umana è profondamente ambivalente voi siete allievi di Orlando comunque conoscete diciamo in fondo questo è una delle più delle più ecco delle cose su cui la psicanalisi in particolare la versione che ne ha dato Orlando nei rapporti con la letteratura è più stringente ecco la stessa idea dell'ambivalenza la si ritrova in alcuni autori e io mi ci ritrovo per prima nelle cose che scrivo cioè che l'umano è fatto di bene di male siamo ambivalenti in qualsiasi delle nostre esperienze con gli altri o anche con la recentemente facevo agli studenti questo esempio la visibilità oggi che allo stesso tempo pensate ai social o alla cultura delle celebrità è una forma di potere le persone più visibili sono quelle che agiscono di più e però allo stesso tempo come sappiamo le persone troppo visibili sono quelle spesso che Lady Diana o tantissime star che si sono lamentate di questo sono quelle che poi soffrono dell'aspetto fucoltiano di sentirsi prigioniere della loro visibilità questo in generale riguarda tutti i nuclei di base dell'esperienza umana l'amore l'amore ambivalente non è una cosa buona una cosa cattiva una cosa che ci fa oscillare tra dimensioni diverse allora a questo punto la morale che viene reintrodotta all'interno del discorso antropologico è la morale che ci insegna che sì gli esseri umani sono capaci di tensione verso il bene e sono capaci di tensione verso il male e la letteratura antropologicamente più realistica o più fine è quella sicuramente che cerca di rispettare questa dimensione e a noi spesso piacciono i romanzi in cui questa in cui questa doppia dimensione viene ma è anche lecito contrario cioè che ci siano quelli che come come George Eliot diciamo si appassionavano o Tolstoi di Ressurrezione si appassionano per delle vicende che sono fortemente connotate per il perfezionismo così come c'è tutta quella tradizione particolarmente francese che invece ha una sorta di predilezione per la descrizione del male e per il compiacimento con questo aspetto ecco io trovo che le due cose vadano insieme nella struttura formale che poi sia lecito a ogni scrittore con la sua politica di parlare di quello che per lui è sensibilmente è sempre come d'altra parte dice lo stesso sito è sempre bene parlare di sé e di quello che si conosce piuttosto che di darsi e in questo ha ragione che certe forme di impegno a volte sono un po' ridicole perché c'è questo tentativo di appoggiare delle cause che non hanno niente a che fare con noi mentre probabilmente guardando un po' più vicino alla nostra esperienza potremmo avere lo stesso tipo di intensità o anzi maggiore ecco però di per sé non ha tanto senso parlare di diciamo letteratura del male o di letteratura del bene perché entrambe fanno parte di quella ambivalenza di fondo del possibile che fa parte dell'esperienza umana insomma e la letteratura d'altra parte questo lo testimonia poi dopo è vero che nel regime più morale dell'arte che ha preceduto la svolta romantica c'erano delle fortissime istanze di tipo religioso politico e un sentire comune dice giustamente oggi prevale il relativismo totale o le nicchie comunque invece prima c'erano effettivamente stati e chiese che diciamo intervenivano pesantemente con minacce anche personali sul mantenimento di una certa morale e allora a questo punto si capisce perché il racconto della modernità ama vedere tutto l'autonomizzazione dell'arte come un'emancipazione perché di questo si è trattato sicuramente è stato il fatto di togliere questa specie di cappa che rendeva non dicibile o comunque non esplorabile quel secondo lato dell'ambivalenza che ho nominato ecco però per concludere nulla vieta appunto ai perfezionisti e ai diciamo agli appassionati di una letteratura più impegnata di fare la loro scommessa di scrivere dei bei romanzi e delle belle opere che trattano del bene in una maniera non ingenua alla fine io credo che in estetica conta sempre il risultato quindi appunto quella cosa più interessante è guardare i romanzi e giudicare quello che sono riusciti effettivamente a fare questo all'interno anche spesso degli stessi autori per esempio penso a City cioè al fatto che ci sono dei suoi romanzi che io trovo molto più riusciti e che appunto non riguardano poi o comunque non mettono in discussione poi la sua poetica o le sue prese di posizione più politiche ecco io vi propongo solo questo tipo di riflessione forse è un po' straniante non è il genere di riflessione a cui si è abituati in un dipartimento di letteratura però questo che appunto corrisponde non soltanto al tipo di domande professionali che mi faccio ma anche alla mia esperienza di lettrice cioè io una volta impostate le cose così io riconosco più facilmente anche la la pluralità degli autori che ho amato e il fatto di non dovermi vergognare del fatto che ce ne siano alcuni che sono più o meno schierati da un lato o dall'altro ecco diciamo che ci abbiamo invitato apposta per avere una prospettiva che non è appunto quella solita che viene praticata in un dipartimento di letteratura Raffaele vuoi reagire a queste moltissime ricissime sollecitazioni di Barbara e infatti allora parto dalla coda cioè dalle cose che Barbara diceva alla fine dunque anzitutto detto questo che proprio l'esperienza dell'insegnamento credo metta noi di fronte alla necessità di parlare della letteratura non come una cosa che è fatta di focalizzazioni e decasillabi sdruccioli o questioni puramente tecniche ma al contrario di farla reagire con la concreta esperienza che noi e i nostri studenti hanno del mondo quindi da questo punto di vista è precisamente quello che credo noi tutti insegnando sperimentiamo essere una cosa necessaria ci sono due cose anzitutto 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 tre cose su cui vorrei ritornare cioè il problema di letteratura e descrizione del mondo morale il problema che sembra specifico ma in realtà è capitale dell'identificazione e dell'empatia e quello storico dell'autonomia dunque anzitutto Barbara lo sa meglio di tutti c'è una larga tradizione nella letteratura occidentale che collega la narrazione o comunque le narrazioni e la letteratura allo studio alla descrizione alla definizione dei campi morali cioè da Aristotele passando per Teofrasto arrivando ai grandi moralisti arrivando ai grandi romanzieri sette-ottocenteschi si vede un intento comune che è precisamente quello di definire ma non il bene e il male ma piuttosto la fenomenologia degli esseri umani di fronte a questi problemi e quindi da questo punto di vista davvero la letteratura è più sottile di quanto riesca a fare la filosofia perché mentre per la filosofia il compito è l'universalizzazione del concetto per la letteratura invece rendere conto della particolarità e da questo punto di vista tra l'altro le studiose dell'etica alterna lo dicono esplicitamente la letteratura è di ausilio della filosofia perché le richiama quella particolarità quella concretezza con la quale a volte la filosofia morale ha difficoltà a fare i conti perché tende ad astrarre e generalizzare e da questo punto di vista c'è assolutamente un piano di complementarità cioè io immagino il filosofo capisca meglio i problemi morali attraverso le narrazioni che mettono sotto i suoi occhi la particolarità delle situazioni dei personaggi degli accidenti viceversa noi che studiamo letteratura abbiamo pur bisogno di categorie generali che ci permettano di capire la particolarità di quei casi e da questo punto di vista c'è assolutamente un piano di collaborazione tra l'altro la particolarità non è solo quella del singolo personaggio che peraltro il romanzo sempre più definisce nella sua storia con una caratterizzazione sempre più stretta per cui se i personaggi dei romanzi cavallereschi medievali rinascimentali sono abbastanza stereotipi e generici Madame Bovary e Anna Carienina no sono loro esclusivamente loro e perfettamente individuate ma al tempo stesso c'è anche una particolarità della voce di chi parla viene fuori da quello che tu dicevi su Proust e Descombe perché effettivamente poi c'è la particolarità di un'esperienza di qualcuno che ti racconta la sua visione del mondo e questo ti impone di misurarti anche con un punto di vista che non è tuo e che appunto dal punto di vista morale è precisamente la cosa di cui tutti abbiamo bisogno cioè questo è vero le autrici dell'ethical turn o comunque i filosofi dell'ethical turn hanno ragione mettersi dal punto di vista di un altro che quello che l'esperienza estetica e le esperienze narrative ti impongono di fare è sempre un esercizio salutare che poi riesco no è un'altra questione ma sicuramente un esercizio salutare il problema è proprio il modo di questo mettersi dal punto di vista dell'altro è vero che raccontarmi la pedofilia dal punto di vista del pedofilo la Shoah dal punto di vista del nazista i problemi delle relazioni di genere dal punto di vista di un maschilista e non considerare certe cose magari in una maniera insomma non ovvia e perturbante bisognerebbe poi anche chiedersi qual è come dire in questi punti di vista quello dominante davvero e quale invece non lo è ma in ogni caso certo che questo tipo di esercizio è un esercizio necessario ma il fatto è che l'empatia è uno dei modi da un certo punto di vista più primitivi e più elementari di rapporto con il testo è ovvio che noi tutti abbiamo un momento empatico nella lettura dei testi cioè quando leggo Madame Bovary a un certo punto non solo Gustave Lebed ma noi tutti siamo Emma Bovary ci mancherebbe però io non credo che la nostra esperienza anche estetica di rapporto con i personaggi sia sempre solo di medesimazione io credo che ci sia in noi sempre una specie di contrattazione per cui di fronte i personaggi aderiamo alle loro vicende ma a volte ci indigniamo non siamo d'accordo saltiamo sulla sedia se il nostro eroe fa una cosa o un'altra e porre tutto in chiave di empatia secondo me è un punto di vista regressivo in realtà sarebbe meglio parlare di simpatia cioè di capacità di mettersi in accordo con l'altro ma senza essere completamente risucchiati dal suo punto di vista ma del resto le costruzioni narrative sono fatte così non c'è solo il punto di vista del personaggio ma c'è anche un narratore che è spesso le media e a volte quando lo stesso protagonista è narratore ci sono tutta una serie di dispositivi che ci impongono di mettere tra virgolette l'esperienza di personaggio del personaggio e in qualche modo guardarla da fuori la grande categoria che usava Bakhtin è quella dell'extralocalità infatti è una categoria morale c'è una categoria che ci impone di fare i conti con le esperienze degli altri con la loro visione del mondo però vi ricordare anche che non sono totali totalizzanti e che non dobbiamo rinunciare a noi stessi e perderci nell'altro così un po' bambinescamente perché questo sarebbe veramente un po' bambinesco e soprattutto sarebbe irrealistico ma noi non abbiamo una relazione empatica cioè di assoluta identificazione con nessuno nella vita neppure con le persone che amiamo di più con le quali spesso siamo in tensione le tiriamo e alle quali diciamo cose diverse da quelle che loro pensano quindi l'estetica dell'empatia secondo me è un modo regressivo di affrontare il problema sarebbe secondo me più corretto parlare di un'estetica simpatetica per cui c'è sia il momento empatico di identificazione sia un momento di trascendimento di estraneità l'estraneità è una categoria da questo punto di vista essenziale cioè noi dobbiamo riconoscere che gli altri sono altri non sono cioè io non posso trattare il personaggio letterario semplicemente come una proiezione di me stesso perché questa è una falsificazione devo guardarlo come un altro che mi dice delle cose a quali ho da dire tutte le cose completamente d'accordo e più aggiungerei il fatto che poi è finzione noi ne siamo consapevoli non a caso infatti Aristotele diceva che poi il processo di identificazione eccetera della catarsi è permesso proprio dalla distanza che lo spettatore ha sapendo di stare assistendo a uno spettacolo quindi attenzione è vero che l'estetica dell'empatia è ingenua non tanto perché è vero che è un fenomeno primario dell'esperienza umana ma attenzione perché il personaggio non è un altro in carne ed ossa e noi lo sappiamo mentre lo leggiamo anche persino i bambini lo sanno anzi forse loro sono persino quelli più scaltriti da questo punto di vista e questo viene spesso dimenticato da chi anche non soltanto dai diciamo dai sostenitori della teoria dell'empatia perfezionistica ma persino da quelli che temono la mimesis che è l'altro lato cioè quelli che ti dicono ma se tu allora vai al cinema e vedi la violenza è vero che c'è una parte di te che scopre tutto un mondo e che comincia magari a pensare che ci sono delle cose che non aveva mai pensato che si potessero fare però è anche vero che sai che è finzione che interviene quell'elemento di giudizio che tu dicevi che dialoga con la tendenza empatica che è distanziante diciamo c'è un elemento di distanziazione di avvicinamento mediato ulteriormente dalla consapevolezza della finzione quindi e qui arrivo alla terza questione che è quello dell'autonomia per la quale tu giustamente hai chiamato in campo di verità e finzione perché l'autonomia dell'arte appunto è il primato del bello che va giudicato di per sé solo contro la tirannia delle categorie morali del bene e del male contro la tirannia di quella cosa molto scivolosa che fa i conti con la realtà così com'è e con la finzione che è sempre un ambito pericoloso come sappiamo nei tempi di Platone e poi più genericamente non solo la verità empirica ma la verità di ordine politico ideologico religiosa l'autonomia dell'arte quindi è stata anzitutto un enorme esercizio e acquisizione di libertà come tu ricordavi giustamente è però anche vero che nel momento in cui nasce quando nasce sostanzialmente nasce a metà ottocento con le poetiche dell'art porla cioè nasce con i due casi entrambi processati giustamente di Baudelaire e di Claver e nel momento in cui però loro hanno bisogno di rivendicare questa libertà la prima cosa che fanno è contravvenire ai diktat sociali che riguardano la sfera del bene e in particolare che riguardano la sessualità perché vengono messi a processo Madame Bovary e i fiori del male i fiori del male perché hanno delle cosi lesbiche e no per carità non si può parlare di queste cose Madame Bovary non perché parli di un adulterio come è noto perché quanti romanzi di adulterio ci sono ma perché il narratore non esprime una decisa netta condanna nei confronti di Emma il problema non è la rappresentazione del male perché questo è sempre stato un compito della letteratura il problema è rappresentarlo senza condannarlo con sufficiente vigore ed esplicitezza poi se uno legge con attenzione ci sono dei passi di Madame Bovary in cui il narratore prende le distanze da lei dice che lei si inganna addirittura dice che prima di suicidarsi va a chiedere i soldi a lei si prostituiva quindi in realtà ci sono dei momenti di giudizio morale ma il problema è che non sono articolati da una voce che ne assume la responsabilità secondo me questa è una categoria decisiva la responsabilità di chi produce arte e di chi media gli artisti dell'art purlar e dell'autoria sono artisti che rivendicano la loro responsabilità esclusivamente rispetto al bello e non rispetto a valori che la comunità conosce o dichiara come oggetti allora sin dall'inizio secondo me le estetiche dell'autonomia si sono messe in questo piccolo cieco per cui nel momento in cui volevano dichiarare la loro libertà si trovavano a combattere mettersi un po' con le spalle al muro contro alcuni feticci del pensiero comune e specificamente con la morale sessuale e in effetti in tutti gli autori di oggi i moralisti la sessualità è uno dei temi che viene agitato più di tutti perché paradossalmente ancora oggi in quella che dovrebbe essere una società che come dire ci obbliga al godimento come dice la canna in realtà la sessualità continua ad essere un problema e avere degli aspetti di tabù però appunto sin dall'inizio c'è questo questo problema e gli scrittori di oggi che rivendicano l'autonomia si mettono secondo me nello stesso modo con le spalle al muro perché anche loro assumono un atteggiamento che è quello di contestazione dialettica di rovesciamento di quelli che vengono percepiti come tabù sessuali l'unico tabù sessuale che è rimasto realmente è la pedofilia e di fatti la pedofilia è un tema che trovate in mozzi che trovate in oppure ci sono altre forme di sessualità promiscua di Google Bank ma quelle sono abbastanza più soft perché siamo abituati a leggere e abbiamo visto ben altro anche qui non è la sessualità trasgredita che faccia problema Pasolini per citare un autore che ha in realtà oggi un enorme influente sugli scrittori italiani ma in caso faceva scrupoli nel momento in cui scriveva petrolio o in cui girava Salò però un conto è rappresentare quella sessualità dandole un di più di valore politico e quindi valore di denuncia come succede in Salò un altro conto è lasciare campo libero e far sentire cretino chi si disgusta di fronte a una rappresentazione così violenta di temi di temi scabrosi perché quello che i moralisti fanno gli immoralisti fanno è questo e il tema che tu richiamavi cioè il fatto che l'autonomia dell'arte è anche un'autonomia della finzione rispetto al vero anche questo è tornato un tema enormemente dibattuto dagli scrittori di oggi e dal dibattito critico di fatti Siti non è solo un fautore del moralismo e quindi parlo di quello che mi pare anzi parlo apparentemente delle cose marce che voi non volete vedere ma è anche un grande ripensore della finzione come diritto di invenzione anche qui naturalmente la finzione è un enorme acquisto di conoscenza ci mancherebbe è un acquisto di conoscenza tra l'altro facilmente come dire riguadagnabile alla sponda dell'etica alterna perché questi che cosa ti dicono è un esercizio della mente in cui tu immagini delle situazioni e quindi ti alleni a vivere meglio e questo però ancora una volta disconosce l'aspetto ambivalente dell'immaginazione perché l'immaginazione è anche un aspetto pericoloso di liberamento di fantasmi di fantasie o di immagini che così educate non sono il problema dell'etical turn è che taglia troppo bruscamente il terreno e esclude tutto quello che è sconveniente o lo censura immediatamente il problema degli moralisti è al contrario che dimenticano l'altra faccia del mondo che peraltro è una faccia del mondo quella del bene con la quale dovremo pur confrontarci se vogliamo avere delle vite minimamente e un dico felice va degne ecco questo sì quindi l'autonomia dell'arte oltre ad essere una fase molto circoscritta della storia culturale perché è una fase che nasce sostanzialmente veramente con la metà dell'ottocento lo stesso canto che ne è un precursore però non la intende certo nel modo in cui la intenderanno Flauvert Baudelaire e poi i modernisti perché il signore del cielo stellato sopra di noi non è certo uno che avrebbe apprezzato Madame Ovarie o le Femme d'Amnée dei Fiori del Male dicevo è una fase che nella storia europea è molto circoscritta cioè dalla metà dell'ottocento fino sostanzialmente alla metà del novecento ma poi dopo pensate a tutte le poetiche dell'impegno post bellico e immediatamente a ridosso della guerra mondiale quelle sono poi assolutamente etarome ecco è una fase circoscritta è una fase eccezionale e diciamolo pure è anche una fase che non è mai stata realmente egemonica perché gli anni dell'autonomia dell'arte sono anche gli anni di Tarsoio e Dastageschi cioè dei più grandi romanzieri morali sono gli anni di Proust che non è solo lo strapitoso autore di un romanzo tutto costruito per forza di letteratura a di uno che costantemente riflette sui problemi della vita morale rispetto a questa tradizione in cui l'autonomia in realtà in qualche modo cerca sempre di contrattarsi con l'eteronomia io ho l'impressione che gli scrittori di oggi no siano un po' troppo semplicisti cioè la contrattazione con l'eteronomia con il mondo di fuori che è indispensabile perché altrimenti non ci sarebbe nessun motivo per cui nel leggessimo letteratura cioè potremmo giocare a carte sarebbe più divertente tutto sommato invece la contrattazione dell'autonomia con l'eteronomia è necessaria e l'autonomia va pensata innanzitutto come un esercizio di libertà e non semplicemente con un diritto a giocare sulle forme in se stesse è vero che questo è un valore perché è un valore comunque l'esercizio dell'intelligenza e della creatività ma se parliamo di narrativa onestamente a me interessa relativamente che gli aggettivi siano ben scelti per quanto personalmente se vizi i miei studenti sugli aggettivi scelti bene e male mi interessa che ci sia una sostanza di profondità reale ho l'impressione che questi scrittori di oggi insomma siano un po' troppo disgustati da un certo pensiero comune da un certo moralismo stresciante per ricordarsi che però sì il moralismo è una parodia ma i problemi della morale no quelli non sono una parodia quelli sono problemi che vanno affrontati in maniera essenziale questo secondo me ci porta a secondo punto che potremmo discutere che è precisamente quello della relazione tra letteratura e discussione pubblico oggi diremmo meglio mondo dei media perché è evidente che questi scrittori proprio nel momento in cui rivendicano l'autonomia della letteratura in realtà sono parassitari rispetto all'immaginario mediatico cioè affrontano precisamente quei temi che sono più quelli che inclusiscono la comunicazione di massa prima facevo l'esempio della pedofilia tra l'altro in Italia ricorderete molti casi di cronaca in cui sostanzialmente è stata inventata la pedofilia il luogo in cui per fortuna non era stata esercitata ed è stata inventata da un enorme carrozzone mediatico da questo punto di vista questi scrittori che cosa fanno? ma soddisfono la stessa bisogno che è un bisogno sul quale bisognerebbe interrogarsi ovviamente perché evidentemente in una società tendenzialmente perbenista come la nostra tutta questa morbosa attenzione per questi fatti così anche come l'idoleggiamento del bambino come creatura afroidiana e quindi assolutamente innocente parla di una enorme cattiva coscienza della nostra cultura allora questi scrittori inseguono questi stessi temi che appunto sono così gettonati nella comunicazione di massa però te li mettono in salsa nera anziché in salsa di deprecazione la loro autonomia da questo punto di vista è un po' fasulla nel senso che inseguire la comunicazione di massa semplicemente rovesciarla ma proprio precisamente sullo stesso tema pensate anche ad altri scrittori a Welbeck Welbeck è uno che pare abbia l'agenda dei temi discussi pubblicamente di cui lui dà la versione disdicevole cosa peraltro ancora più disdicevole per uno scrittore francese perché gli scrittori francesi con tutto che hanno anche loro la brava tradizione razionaria uno scrittore francese soprattutto uno si aspetta professioni di illuminismo e di educazione alla libertà e invece lui ti dice delle cose che nella cultura francese rimangono sempre piuttosto sconvenienti allora da questo punto di vista secondo me questi scrittori parlano di una anchilosi nella cultura contemporanea nella cultura contemporanea cioè in questa ossessione del dibattito pubblico e della mediatizzazione dalla quale difficilmente riescono ad uscire anche qui c'è un problema filosofico cioè il confronto della libertà del pensiero con la doxa cioè con il pensiero dei più con il pensiero comune se non il pensiero di tutti e in più c'è un problema che invece questo è specificamente contemporaneo e su cui Barbara sta riflettendo oramai da alcuni anni in genere questi questi moralisti prendono di mira preferenzialmente tutti i temi che vengono bollati come politicamente corretti questo è un tema su cui ora vorrei condurti perché è un tema capitale è un tema che troppo spesso viene affrontato in maniera superficiale perché si può facilmente ridurre in burletta il fatto che uno non sa più come intestare le mail se mettere il maschile il femminile o l'asterisco ma per quanto questo sia come dire un problema forse un po' superficiale il problema sostanziale c'è ed è enorme e c'è la nostra necessità di confrontarci con esperienze di vita particolari e che non sono riconducibili al si fa si dice che ha avuto credito per anni quindi è vero che il politicamente corretto può prendere forme un po' risibili ma è altrettanto vero che il problema c'è ed è enorme allora prima vorrei aggiungere due cose brevissime su quanto hai detto prima di arrivare alla questione del politicamente corretto una è in funzione veramente per aiutare gli ascoltatori per aiutare gli studenti che cosa intendiamo per bene perché noi siamo una cultura ormai interamente secolarizzata che ha un problema con parole così grosse quindi immediatamente si pensa che il bene voglia dire appunto leggere il catechismo che ci dice come dobbiamo vivere o quali sono i valori che dobbiamo rispettare anche in questo caso mi rifaccio a una corrente filosofica avvicina all'antropologia filosofica e in particolare a un filosofo che si chiama Charles Taylor che ha scritto uno dei più bei libri che consiglio a tutti gli studenti di letteratura di leggere proprio per avere un quadro di che cos'è in generale la formazione dell'individuo moderno della soggettività moderna e il libro si chiama Le radici dell'io è molto difficile è un grande racconto che parte dalla prima modernità e arriva fino al modernismo e che comunque diciamo nei capitoli introduttivi spiega che cosa si deve intendere per l'inevitabile rapporto che qualsiasi essere umano qualsiasi sia la sua cultura di appartenenza o l'epoca storica inquinato ha nei confronti di questa parola il bene non è altro che quel tipo di sistema di valori orientativi che dà senso alla vita individuale di cui noi abbiamo bisogno per orientarci nel mondo e per dare una direzione alla nostra vita anche quando non ci poniamo esplicitamente il problema noi nasciamo già all'interno di una cultura che ci propone questi diciamo macrovalori o questi principi di orientamento che passano attraverso la nostra classe sociale le scuole che abbiamo fatto la religione che a un certo punto più o meno decidiamo di abbandonare o di adottare o anche semplicemente una forma di vita qualsiasi cioè non c'è forma di vita che non abbia un rapporto con questo concetto che appunto ha questo nome altisonante e che non è altro che un sistema di orientamento cioè qualche cosa che attrae e verso il quale noi orientiamo le nostre azioni che hanno sempre una finalità e che quindi hanno una direzione quindi si tratta di una struttura formale in questo senso come diceva Raffaele non possiamo in realtà non potremo mai eliminarle queste questioni semplicemente che sono iscritte nel nostro modo di interrogare la vita e di agire anche quando le neghiamo cioè gli scrittori immoralisti hanno una loro visione del bene che è per esempio la creatività artistica e l'idea di lasciare un'opera è ancora la visione di Proust cioè l'idea che l'artista è quello che lascia la sua piccola visione del mondo condensata in un'opera esemplare e che a sua volta diciamo susciterà altri artisti per esempio a sviluppare la loro è una visione del bene come le altre insomma e ci sono invece gli impegnati in questo momento magari più stimolati dalle questioni la questione ecologica dalle questioni postcoloniali i quali si identificano in questi nuovi beni che sono stati che sono venuti alla luce da sacrosanti dibattiti e comunque processi di autoriflessione culturale quindi appunto non se ne esce quindi tanto male tanto vale in un certo senso rilegittimare che cosa si intende e chiarire la propria posizione all'interno di questo una seconda osservazione veloce riguarda la questione del formalismo di fatto nelle cose che avete detto sia tu Raffaele che Cristina torna l'idea che il regime romantico dell'arte dell'autonomia dell'arte si associa a una sorta di spostamento tendenzioso dal contenuto alla forma un'altra delle cose che vengono rimproverati all'ethical turn in generale alle letture dell'impegno ma voi alla fine vi interessa solo di cosa si parla in un libro e non di come e da qua tutta la difesa l'aggettivo la forma tutto vero lo scrittore fa lo scrittore perché è il modo in cui scrive le cose che conta o per dirlo più sottilmente è la forma che diventa contenuto e il contenuto che diventa forma cioè le due cose sono indistinguibili ma ritorno in questo alla mia visione delle forme simboliche lo dice Blumenberg ve lo ripeto io cioè alla fine la letteratura è letteratura proprio perché è inconcettuale e perché agisce attraverso figure retoriche e strumenti legati alla finzione oltre alla questione del bello stile che comunque ha una sua portata cognitiva ed estetico contenutistica a sua volta che per esempio il modo in cui Flaubert sceglie un aggettivo vuol dire che è quel modo lì di dire quella cosa che corrisponde alla sua innata verità ci sono anche altri strumenti su cui siccome si potrebbero veramente fare tesi di laurea di dottorato a go go per esempio pensavo sentendoti parlare di Madame Bovary l'antonomasia il fatto che il personaggio letterario non soltanto nella forma dei caratteri che tu hai evocato cioè che ci sono queste specie di regolarità di vizi di virtù di comportamenti che vengono ben descritti dalla letteratura e che ci aiuta a trovare quelle regolarità un po' come nella natura le leggi di natura si può dire che la letteratura ci fa vedere questo ma ci sono anche dei processi per cui per esempio soprattutto nella letteratura moderna l'invenzione di un personaggio particolarmente plastico come può essere Madame Bovary che addirittura ha inventato il vizio morale che è diventato appunto l'antonomasia del suo comportamento cioè il bovarismo oppure il fatto che noi nella vita quotidiana mi capita spessissimo di dire quello è un Julien Sorel questo è l'esempio di la potenzialità cognitiva della letteratura cioè il fatto che ci sono delle forme rappresentative talmente dense talmente coerenti al loro interno che tac dicono le cose molto meglio di una perifrasi di un discorso addirittura di un concetto Julien Sorel è più concreto che dire una rivista molto più concreto perché c'è dietro una questione psicologica di origini sociali eccetera e così il bovarismo addirittura è stato inventato dallo scrittore che lo ha che lo ha diagnosticato per la prima volta e gli ha dato il nome del suo personaggio quindi ecco era per dire che appunto la letteratura non è l'ancella di nessuno è proprio in questo caso addirittura una scopritrice di verità di fenomeni di verità e poi vengo alla questione del politicamente corretto che è più difficile da affrontare e anche da spiegare io sono una convertita forse è il modo migliore di dirlo come Sant'Agostino cioè ho rubato le pere e poi e adesso me ne pento per la formazione che ho avuto tra l'altro Pisana per il tipo di lettura che ho fatto e di cultura che avevo diciamo ricevuto fino a diciamo all'età di più di 30-40 anni ero ostile per principio a queste cose che mi sembravano moralistiche che mi sembravano delle americanate anche questo è interessante sempre l'idea che si attribuisce all'influenza straniera tutto il peggio cosa a cui io di solito rispondo vabbè anche la rivoluzione comunista era un prodotto di scortazione volendo cioè non è che tutto quello che viene dall'estero politicamente deve essere rifiutato cioè addirittura l'abbiamo fatto con le cose in cui abbiamo creduto anche più positivamente quindi non è un buon argomento ecco quello di dire che stiamo imitando scimottando gli americani quando le cose si impongono c'è sempre una ragione cioè bisogna chiedersi perché storica di sensibilità eccetera e il bravo realista in primo luogo deve mettere le mani in queste cose cercare di capire quali sono le ragioni e eventualmente anche le buone ragioni che ci sono dietro oltre che le cattive come verrebbe spontaneo rifiutare allora sulla questione del politicamente corretto io ci sono arrivata personalmente attraverso la questione femminista e tutta una serie di aneddoti che ho anche raccontato in altri contesti comunque diciamo mi sono accorta a un certo punto che c'era un'enorme sfasatura tra quello che diciamo io pensavo come individuo appunto la mia ostilità alla la correzione delle parole stare attenti a come si parla perché una cosa bisogna chiamarla con le sue vere parole se è una puttana è una puttana è una puttana e il fatto di rendermi conto che tutto questo era in contraddizione per esempio con uno degli autori che mi aveva più diciamo non impressionata ma che ha proprio più trasformato il mio modo di vedere il mondo e di pensarlo che è Pierre Bourdieu il sociologo la cui diciamo invenzione teorica principale è il concetto di capitale simbolico che poi è un modo non troppo diverso di dire geomonia come lo diceva Gramsci quindi sono cose che sono familiari alla tradizione marxista italiana da vent'è che cosa vuol dire il capitale simbolico vuol dire molto banalmente che anche le cose culturali che nella visione spesso del materialista o del marxista diciamo ortodosso sono secondarie perché sono sovrastrutturali cioè ciò che nell'uguaglianza è quella di garantire risorse materiali l'uguaglianza di salari eccetera e le parole sono solo parole in realtà la cultura e il linguaggio in particolare sono forme di capitale quando si arriva nel mondo le donne lo sanno benissimo lo sanno ancora di più i neri lo sanno gli omosessuali tutte le categorie che non sono state egemoniche all'interno della cultura ci si trova diciamo il mondo già strutturato e ci si trova dalla parte dei perdenti o diciamo degli sfigati per usare le categorie di una well back cioè di quelli che effettivamente hanno meno risorse culturali diciamo meno quote date dalla natura date più che dalla natura dalla storia comunque dai sistemi di potere e quindi effettivamente riflettere sul modo in cui il linguaggio quotidiano e la oltre che le forme di espressività artistica cose che tra l'altro io distinguerei perché ci sono tanti livelli una cosa è il linguaggio delle istituzioni su cui io interverrei con un controllo capillare perché è giusto che le istituzioni si rivolgano in maniera rispettosa ed equa e democratica a tutti i loro appartenenti un'altra cosa ovviamente è l'espressività individuale nessuno andrebbe a dire a well back che deve cambiare il suo modo di scrivere o di parlare delle donne sarebbe come negare il suo stile e la sua legittimità degli esprimere il suo punto di vista un'altra cosa è il linguaggio quotidiano con cui ci parliamo tra di noi e usiamo anche quelle forme di rispetto e di come dire di riconoscimento che sono fanno parte della vita quotidiana io faccio sempre un esempio che ci scandalizziamo per il politicamente corretto per correggere due parole poi però scriviamo al magnifico rettore senza vergognarci all'università no ma è vero cioè è una cosa da fantozzo volendo pensarci cioè abbiamo introiettato l'idea che ci sono c'è uno status a cui dobbiamo rivolgersi con tutti i segni di rispetto eccetera lì nessuno interviene perché vabbè siamo quasi ironici mentre invece se dici effettivamente un femminile declinato o appunto l'attenzione a non offendere l'autorappresentazione a dignità di determinate categorie immediatamente si grida allo scandalo e alla Orwell e al controllo della lingua quindi diciamo la mia prima risposta polemica è quella di dire attenzione perché questo controllo della lingua già c'è semplicemente è quello che abbiamo ereditato con le strutture di capitale culturale in cui ci siamo trovati a nascere e attenzione perché queste sono sempre forme che sono caratterizzate dall'auto evidenza e che le rende più pericolose il fatto di noi ci sembra naturale che il punto di vista del maschio bianco quello che si dice il maschio bianco privilegiato eccetera sia in fondo l'espressione dell'universale non è vero non è vero perché c'è dietro un abitus particolare c'è una storia che fa sì che siano queste persone che hanno avuto più facilità a esprimere i loro punti di vista e a trasformarli in una visione egemonica e quindi è giusto come insegnano i cultural studies che ho molto rivalutato appunto negli ultimi dieci anni di mettere in discussione attraverso strumenti di critica culturale abbastanza diretti e immediati queste gerarchie che poi spesso una certa pratica dei cultural studies all'americana diciamo sia priva di una sensibilità storicistica profonda è un limite che può essere tranquillamente colmato con la nostra maggiore eventuale consapevolezza ma di per sé il problema secondo me è la diretta e spontanea continuazione di una diciamo critica culturale che si interessa ai problemi dell'egemonia cioè chi decide di qual è la cultura dominante cosa devono essere i valori le parole e in generale la cultura dominante all'interno di un determinato contesto o come la distribuzione di inuguaglianza culturale si dà e può essere corretta con strumenti più o meno dall'istituzionale alla ribellione vera e propria in fondo il gay pride che cosa ci ha insegnato che si contesta una questione di egemonia scendendo per la strada facendo una manifestazione manifestando i segni dell'oppressione simbolica come addirittura un segno di fierezza e spesso sono strategie interne al sistema simbolico che funzionano perché è come dire è agire con le armi della cultura contro la cultura quindi di per sé non ci trovo assolutamente niente di strano né tantomeno di bacchettone anzi una sottile forma di realismo politico-culturale che poi tutto questo si trasformi sui media importantissimo quello che hai detto Raffaello sul fatto che in tutto questo c'è un'enorme operazione di mediazione in un discorso mainstream che ha degli eroi che vengono che più o meno poi dopo vengono identificati con le prese di posizione pubblica di non si capisce poi quale tipo di lettore comune o mainstream e contro cui è giusto spesso ridere con le armi della satire o anche della giusta indegnazione va benissimo ma di per sé non trovo che sia un segno di decadenza tutt'altro anzi si acquisita una riflessività maggiore sul fatto che i punti di vista sono situati e che effettivamente per fare per esempio anche un esempio sulle questioni di canone non si tratta di dover rappresentare delle cose che non ci sono ma di dover spiegare perché certi punti di vista e certe voci non hanno avuto la possibilità di esprimersi che poi era quello che diceva Virginia Woolf nella stanza tutta per sé niente di particolarmente diverso ecco quindi sul politicamente corretto invito semplicemente a una maggiore analisi e riflessività insomma non è uno spauracchio americano e anzi trovo che questo modo di liquidare un problema serio come qualche cosa di ridicolo e che si sarebbe una statura di una cultura da campus che tra l'altro c'è talmente strana e ancora lontana che noi avremmo francamente bisogno che arrivasse un pochino di attenzione a queste cose nelle nostre università ecco sia ancora tutto molto lontano può essere soltanto un'occasione per accelerare dei processi grazie io volevo dire una cosa un paio di cose conclusive per lasciare spazio agli interventi e alle domande allora una cosa innanzitutto sullo stile perché non vorrei dare l'impressione che ci sbarazziamo troppo semplicemente di questo problema esiste ovviamente lo stile è anche se è vero stile è visione del mondo e da questo punto di vista l'ha preso molto sul serio quindi deve stare molto attento al fatto che gli indica sillabi siano di sesto o di quarta o alla scelta degli aggettivi esiste però anche un come dire in tutte le forme di creatività una specie di amore per la materialità in sé dell'atto creativo dell'immaginazione o proprio della materialità della materia verbale o pittorica anche qui verrà a tutti in mente l'episodio celeberrimo di Bergotto prima di morire nella recherche in cui lui si stupisce che questo petit pain de mouf jaune questo piccolo pezzetto di muro giallo sia stato oggetto di tanta cura da parte di Vermeer ecco questo aspetto di serietà nel dominio dell'immaginazione e della creatività che non necessariamente va semantizzato cioè non necessariamente bisogna dargli un altro valore è un aspetto di cui tener conto perché c'è proprio un come dire un gusto della materia verbale o sonora o pittorica o scultoria o dell'immaginazione che va riconosciuto e rivendicato appunto nella sua libertà e nella sua serietà perché se è un gioco è un gioco estremamente serio come in genere seri sono i giochi allora la cosa su cui volevo concludere un po' tirando le fila è anche il significato politico che questo tipo di letteratura di cui parlavamo può avere perché un tipo di letteratura così polemica e così impuntata rischia di essere non una letteratura autonoma ma una letteratura che parla a chi io ho l'impressione che parli ad una elite di quelli che chiamo i reazionari di sinistra cioè di gente che ha una formazione latamente di sinistra che è disgustata dei mali della democrazia ai quali però non riesce più a trovare un rimedio e anziché impegnarsi nella pratica effettivamente sovrastante di immaginare una possibile interlocuzione con un pubblico vasto si rinchiude e produce un tipo di letteratura che in fondo chi leggerà questo tipo di letteratura per esempio non è minimamente esportabile a scuola il che vuol dire che è un tipo di letteratura che ha correttamente abrogato non naturalmente una funzione dell'età pedagogica che la letteratura ha avuto per secoli ma che non è detto che abbia ma ha una funzione comunicativa ampia perché ovviamente chi potrebbe presentare a studenti liceali bruciare tutto o le ripetizioni di Mozzi sono libri da quel punto di vista illeggibile e da questo punto di vista sono il segno di un accerchiamento della letteratura di una letteratura che si fa ricattare dai media gioca a una specie di gioco al rialzo per cui la spara sempre più grossa però alla fine si mette in un angolo e parlerà a una piccola elite di intellettuali disincantati o per chiamarli con il loro nome nichilista da questo punto di vista è una letteratura che ha un grande fascino perché esercita una funzione di seduzione secondo me anche su persone giovani perché vedono lì degli eroi del pensiero della ribellione e della libertà che però bisogna fare i conti col fatto che parlino a pochissima gente e soprattutto l'impressione siano inadeguati a certi problemi che la cultura contemporanea ci pone ma noi per esempio possiamo pensare di produrre di leggere di propagandare una letteratura del genere in un mondo sempre più interculturale e sempre più complesso in un mondo in cui le sensibilità soggettive non possono essere liquidate semplicemente come fare i capricci di quello che vuole essere riconosciuto o non riconosciuto rispetto a questi problemi capitali che appunto sono quelli ridicolizzati quando si fanno le beffe del politicamente corretto questa letteratura temo che non sia all'altezza da questo punto di vista di fatto io credo che vada presa sul serio però vada presa sul serio perché se ne vedono anche sicuramente il come dire il carattere di provocazione che quello male non fa mai però anche i limiti cioè è una strada che in realtà è un vicolo cieco perché andando così uno scriverà libri che potranno leggere quattro gatti e che soprattutto probabilmente tra qualche anno quando si potrebbe imporre un tipo di sensibilità diversa ci chiederemo ma dio mio ma com'è possibile che in quegli anni si scrivessero romanzi in cui si descrivevano parola per parola atti sessuali così efferati come lo stupro di una bambina poi sgozzata perché questo succede in questi libri e rispetto a questo quello che succede nei romanzi di Saad è una cosa da educande è un problema che non può essere evaso cioè dobbiamo fare conti con questo tipo di letteratura perché alla fine la domanda che ci pongono è precisamente questa ma che ruolo deve avere la letteratura di fronte al dibattito pubblico che ruolo deve avere la letteratura di fronte ad un mondo culturale sempre più complicato e a strutture democratiche che certo che sono in crisi ma se ne esce chiudendo la letteratura nella roccaforte della sua libertà assoluta trasgressiva e che però alla fine è più che autonoma è assolutamente autoriferita perché non è in grado di parlare ad altri allora io mi interromperei qui bene sì grazie a tutti e due di queste ultime riflessioni che diciamo mi sembrano era il punto dove volevamo arrivare quando abbiamo parlato un po' dell'incontro approfitto appunto di queste ultime cose che ha detto Raffaele perché effettivamente l'idea della sindrome dell'accerchiamento descrive bene la posizione anzitutto secondo me psicologica di questi scrittori prima ancora che poetica estetica artistica è una condizione psicologica allora diciamo preciserei dicendo non è l'accerchiamento della letteratura ma l'accerchiamento di un certo tipo di letteratura fatta da certi attori che nello spazio sociale possiamo identificare possiamo spiegare con gli strumenti appunto di Burdia che ricordava super opportunamente Barbara questi scrittori non sono l'universale non sono la letteratura rappresentano se stessi e vanno secondo me ridimensionati anzitutto sociologicamente cioè bisogna collocarli e spiegare da dove vengono certe posizioni iper reattive dicono di reagire a un senso comune ma la cosa che c'è da chiedersi è davvero così consolidato nel senso comune l'antirazzismo il rispetto per le donne il non praticare la violenza sulle donne eccetera perché poi guardandola da questo punto di vista si rischia di arrivare a conclusioni veramente paradossali con questo chiudo anch'io e a questo punto direi di aprire la discussione e invito ovviamente tutti quelli che sono collegati o a usare la funzione della manina alzata per prenotarsi oppure scrivere in chat domande o osservazioni non siate timidi perché come avete visto il clima è informale quindi fatevi avanti poi siete protetti non dall'anonimato però fatevi quindi ti vede allora c'è qualcuno che vuole intervenire anche scrivendo in chat per i più timidi non preoccupatevi di fare domande che possano risultare anche ipoteticamente ingenue non esistono domande ingenue anche domande informative perché forse abbiamo dato per scontato alcune cose che non è detto assolutamente siano scontate allora vedo una mano alzata Emiliano Cavaliere prego sentite? sì buongiorno buonasera e grazie per questo incontro volevo chiedere al professor Donnarumma visto che aveva parlato di Wellback per esempio parlando della facilità con cui si trae dai media dai discorsi mediatici le tematiche più scabrose dei romanzi moralisti io pensando a Wellback mi sono sempre detto che c'era una forma di ironia in questo e che questo in qualche maniera lo salvava da questa accusa e ne valorizzava la scelta in qualche maniera la rendeva più complessa era come se per me c'è sempre una sorta di quando viene scelto proprio quell'argomento immorale per eccellenza e non un altro che potrebbe essere ugualmente interessante volevo chiedere cosa ne pensava dunque io credo che anzitutto il debito che la letteratura oggi ha nei confronti dei temi della discussione mediatica ma anche di alcune forme della discussione mediatica sia assolutamente universale cioè oggi un narratore in genere riscrive una cosa che noi abbiamo già sentita raccontata in televisione sui social media dai giornali e via di questo passo e trovo che sia un processo assolutamente come dire in qualche misura necessario da dove ci viene il più delle esperienze del mondo della vita se non da lì e quindi da questo punto di vista per me è un processo neutro cioè una cosa che accade e che non è necessariamente né buona né cattiva è vero che questa cosa può essere fatta ironicamente però è secondo me un procedimento talmente generale talmente steso che non dice nulla della qualità del testo che viene scritto o è scritto dei romanzi molto belli come l'estensione del domenio della lotta o le particelle elementari che per me che a me sono quelli che sono piaciuti di più altri meno felici però non è che il suo rapporto con i media lo come dire dica a priori se quello che scrive è bene o male e neanche l'atteggiamento tendenzialmente ironico che può avere nei confronti di questi temi garantisce della felicità della scelta quello con cui dobbiamo fare i conti è casomai questo è che il rapporto tra letteratura e media non è solo un rapporto osmotico nel senso che la letteratura si abbeve e le prende spesso la sua materia da lì ma è anche un rapporto contrastivo cioè la letteratura per essere letteratura bisogna distinguersi dai media perché altrimenti viene risocchiata nel campo mediatico e allora è la vecchia accusa ma allora fate solo giornalismo a parte il fatto che oramai come dire ci sono forme di scrittura di intersezione tra letteratura chiamano così e giornalismo talmente intense che insomma questo tipo di accusa questo tipo di distinzione non credo abbia molto senso ma appunto come dicevo è interessante quando uno scrittore per farti capire guarda che io sono uno scrittore non sono un gazzettiere uno che appunto che serve sui giornali sui social media mette in atto tutta una serie di operazioni per distinguersi da quel tipo di discorso mediatico possono essere dispositivi formali possono essere posizioni politiche ideologiche possono essere tantissime cose nel caso di Welbeck come degli scrittori moralisti che citavamo secondo me è anzitutto un dispositivo di posizione per cui voi censurate un certo tipo di atteggiamento verso questi temi e allora io lo assumo è una posizione secondo me in questo un po' coatta perché è una posizione proprio di reazione in senso proprio cioè io faccio l'opposto di quello che che voi aspettate faccia uno scrittore oppure faccio l'opposto del discorso che sento circolare soprattutto nei media o che voi vi aspettereste facesse un bravo scrittore educativo quindi ripeto è possibile naturalmente che si adottino temi e forme della comunicazione mediatica ironicamente poi tutto sta a vedere libro per libro come e se funziona questo gioco ma secondo me ripeto è un fenomeno enorme cioè è diventata la norma tendenzialmente oggi un narratore ci riracconta una cosa che abbiamo letto da qualche parte o che abbiamo visto in televisione o sui media spero più o meno di averlo risposto allora vedo altre domani alzate Pietro Baccino e poi Tommaso Dalmonte direi se siete d'accordo prendiamo tutte e due le domande e poi rispondete ok allora Pietro sì come mi sentite sì e no niente grazie perché il quadro che è uscito da questo scambio è stato veramente cioè mi ha fatto capire una serie di cose tra le quali c'è che probabilmente tra un po' di tempo diciamo che questa questo periodo storico no così forse due decenni verranno visti un po' come il momento in cui la letteratura alta è simbolicamente dominata da una sorta di reazione no il professor Donnarum ha detto c'è la letteratura di cui stavate parlando è fatta per trasformare gente individualista e genericamente di sinistra in reazionare una specie di reazione all'apertura multiculturale che prende l'ipocrisia come il centro da scardinare e che non considera tutta un'altra serie di cose la mia domanda in realtà è molto ingenua e sciocchina forse e diciamo tra i due fuochi che sono più visibili in questo momento almeno per me no che sono in Italia esemplificati dal solito binomio che hanno fatto di tutto per forse formare loro stessi Walter City e Saviano no quindi Walter City è la posizione che sappiamo e che abbiamo discusso anche qui dall'altra parte invece c'è l'impatto più realistico e semplicistico nei confronti dell'attuale voi vedete cioè quali sono gli autori che riescono a smarcarsi da queste due posture che sono entrambi polarizzate come tante altre posture che riguardano altri altri generi del discorso e del dibattito pubblico no perché questa polarizzazione è una cosa che vediamo ovunque cioè quali sono delle posizioni ci sono delle posizioni intermedie altrettanto sintetiche e altrettanto visibili e percepibili di impatto come queste due oppure no perché sono sfumature e quindi si perdono di più grazie Raffaele Barbara chi vuole rispondere forse prima facciamo raccogliare ah sì sì scusate mi sono rimangiata come avevo detto Tommaso Dalmonte prego sì salve buonasera a tutti mi sentite bene sì sì la sentiamo sì allora la mia domanda che è anche un po' una riflessione implicano questo giudizio morale che abbiamo detto sta tornando una componente fondamentale no anche dell'ermeneutica letteraria se non può in qualche modo essere sollecitato dal fatto che gli autori di cui abbiamo parlato hanno anche tutti una grande esposizione mediatica sono tutti autori che scrivono sui giornali penso ad esempio a Saviano alla Murge c'è un riferimento ovviamente opposto a un sito a un wellback così hanno profili social molto forti in cui spesso esprimono posizioni che poi sono le stesse che presentano i loro testi diciamo di narrativa quindi letteratura perciò si viene a creare una sorta di equivalenza tra le posizioni che sono espresse dall'autore perché noi comunque diamo per scontato che un articolo di giornale o un saggio non richiedono la mediazione di un narratore di una figura in qualche modo sempre non del tutto identificabile in quella dell'autore invece appunto queste stesse posizioni poi si ritrovano spesso molto simili nei romanzi e quindi ecco forse questo può sollecitare anche una interpretazione morale di certi romanzi ecco una domanda che ponevo a tutti e vi ringrazio grazie mille allora per ora non vedo altre domande per cui se volete provare a rispondere prima Barbara tu se vuoi dire qualcosa ma a parte che la mia conoscenza del campo della lettatura italiana contemporanea è limitata e in realtà diciamo non mi viene in mente niente che possa rappresentare se ho ben capito quello che ci è stato chiesto una sorta di terza posizione possibile non polarizzata tra diciamo il moralismo alla City e l'impegno alla Saviano e che permetta di riformulare la questione in modo convincente e mi viene in mente uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni ma non so se rispondo alla domanda che sono in generale tutta l'opera di Annie Ernome in particolare la sua autobiografia Agli anni in cui trovo che lì ci sia alla fine tutto quello che si può chiedere alla letteratura anche a livello di impegno perché è una per chi non l'ha letta è un'autobiografia impersonale in cui la scrittrice parla della sua generazione post bellica usando l'elemento formale importantissimo perché vedete l'importanza della forma che diventa contenuto automaticamente perché è un libro scritto nella forma on cioè l'impersonale francese si faceva si direbbe in italiano e il nu in alternativa cioè noi quindi paradossalmente è un'autobiografia in cui il soggetto è collettivo in cui c'è un individuo che prende diciamo prende la parola attraverso una generazione soprattutto e anche una classe sociale e ripercorre la storia della Francia dei vari decenni fino alla maturità dell'attrice che ancora fino alla vecchiaia dell'autrice che è ancora in vita e riesce secondo me allo stesso tempo a comunicare un atto di riflessività politica straordinaria perché è una riflessione sulla società dei consumi sulla sulla le trasformazioni che abbiamo evocato tra l'altro forse l'elemento estraneo l'unico è il coloniale ma non è vero perché c'è anche la vita di Algeria quindi in realtà li troviamo tutti il femminismo naturalmente protagonista e però tutto questo invece di essere diciamo trasmesso attraverso pillole di saggezza o di o di bontà o di bene chiaramente identificabili è trasmesso attraverso lo straniamento che procura la lettura appunto di questa forma strana comunicativa cioè di dire noi facevamo perché allo stesso tempo ha qualche cosa di sociologico Annie Arnaud parla chiaramente del fatto che l'individuo è sempre parte di un gruppo sociale e parla attraverso il suo habitus e allo stesso tempo attraverso la cancellazione dell'individualità e della singolarità individuale che è un po' il mito del nostro tempo insomma e quindi c'è una come dire è proprio è una secondo me un'opera morale nella sua forma e politica nel suo contenuto ma che lo fa attraverso lo specifico della letteratura che è quello di darti un pugno nello stomaco attraverso la lettura e non tanto appunto la conoscenza di argomenti che potrebbero di temi che potrebbero passare attraverso i giornali e un effetto simile anche se non così potente me l'ha fatto la trilogia di Cecil Kask Outline Transit e Kudos che è stata tradotta dai naudi in cui cosa curiosa sempre una donna che si autocancella perché questa è un'autobiografia in cui c'è un io però fa parlare i personaggi che incontra durante dei viaggi che sono del tutto tra l'altro insignificanti come diciamo situazioni rappresentative e anche qui io trovo che ci sia un gesto profondamente morale che veramente stimola il lettore a farsi un sacco di domande ma che passa attraverso ancora una volta la scrittura e ciò che la letteratura davvero può fare nella sua forma specifica aggiungo un'ultima cosa che non abbiamo detto prima che la conferma di quello che dice Raffaele sul fatto che in un certo senso la creazione di questa ultima reazione durante la morte della letteratura o comunque della fine della sua egemonia sociale come strumento artistica corrisponde al fatto che nessuno poi alla fine si interessa davvero di censurare questi romanzi credo che la cosa sia stata evocata giusto da Michela Marzano nei confronti di Walter City in una recensione su Repubblica ma lo diceva quasi ironicamente mentre invece è molto più interessante quando si passa alle arti visive si passa alla televisione o ai media pensate alla pornografia ma anche il porno insomma lì le cose diventano immediatamente molto più concrete e anche interessanti per i genitori figli e cose quindi si vede che effettivamente c'è stato un cambio di testimone che secondo me non annullerà mai lo specifico della letteratura che è legato alla lettura al silenzio alla formazione di una sfera di autonomia mentre si legge al tempo che richiede la lettura insomma è chiaro che ci sono delle però probabilmente è vero che certe trasformazioni mediali fanno sì che non sia più il modo in cui la soggettività per parlare come Foucault si soggettiva oggi e quindi ancora una volta parlo da realista e dico io continuerò a leggere letteratura perché è stata la parte della mia building individuale indispensabile probabilmente i nostri figli lo faranno attraverso le immagini attraverso dei media diversi come dire nel senso della storia è sempre stata così e bisogna capire in primo luogo prima di semplicemente di gridare alla decadente la civiltà perché comunque loro comunque resteranno se il mondo non esplode di caso prima Raffaele vuoi sì allora parto dalla domanda di Dalmonte il problema qual è? che appunto se io scrivo un articolo di giornale parlo in prima persona mentre in un in un romanzo in un testo di finzione posso giocare molto di più sulla irresponsabilità c'è la mediazione della forma non sono io lo dice il personaggio non lo dico io il narratore non è la persona storica dell'autore quindi ci sono tutta una serie di dispositivi per de-responsabilizzare la parola allora questi dispositivi ancora una volta possono essere grandi dispositivi di libertà nel senso che uno può lanciare il pensiero e far dire ai suoi personaggi al suo narratore cose che lui in prima persona non direbbe mai non vorrei che però fosse un gioco un po' facile e questo si vede in alcuni scrittori moralisti cioè c'è proprio il gusto dell'irresponsabilità io lascio che queste cose vengono dette e però insomma dirle o non dirle non è non è indifferente da questo punto di vista il problema della responsabilità narrativa che non va intesa cioè brutalmente semplicemente col fatto che legalmente le cose che ti scrivi insomma hanno un peso ma proprio come esiste anche una responsabilità rispetto agli enti di finzione questo è un problema molto delicato e che non può essere l'uso non ci si può appunto nascondere dietro ma tanto è un romanzo quindi nel romanzo posso dire quello che mi pare perché mica sono io che lo penso in prima persona no esiste una responsabilità anche nelle finzioni anche lì giocare la carta dell'autonomia ma la letteratura può dire tutto quello che gli pare dipende bisogna vedere poi il gioco se balzo alla candela e poi di fatto io credo che i libri vadano sempre presi sul serio anche i giochi vanno presi sul serio quindi l'escamotage è una finzione e lo trovo un po' miserevole francamente ma sì allora insomma uno va a teatro e dice tanto Amletto è mezzo pazzo o finge la pazzia chi se ne frega di questo passo qualunque opera viene completamente disgregata no bisogna prendere sul serio qualunque cosa la finzione ci presenti perché la finzione ha una libertà che non hanno altre forme di comunicazione ma questo non vuol dire che le sia consentito tutto o che possiamo disattivare tutto semplicemente perché finzione al contrario è un esercizio di libertà rischioso e uno deve fare i conti con questo rischio l'altra cosa poi vedo forse Barbara volevi intervenire su questo no volevo aggiungere a quello che stavi dicendo che sono del tutto d'accordo e penso tra l'altro che in un certo senso le opere più interessanti degli immoralisti io penso in particolare ai primi romanzi di City e a quelli di Welbeck che hai citato i stessi due ma alla fine proprio perché parlano di sé in maniera più responsabile cioè si mettono in gioco si sputtanano direbbe City e quindi evidentemente toccano qualche cosa che ha a che fare davvero con un malessere esistenziale una certa posizione nel mondo i personaggi di Welbeck sono belli perché si vede che c'è una sofferenza reale allora in quel senso è chiaro loro hanno preso una responsabilità perché hanno parlato di qualche cosa che non è semplicemente buttato lì per dire proviamo a vedere che effetto fa raccontare una nelle altre cose trovo un elemento gratuito che mi stufa quando quando non non vedo che non tocca però insomma e questo porta alla domanda di Baccino anzitutto la dicotomia City Saviano diciamoci la tutta l'ha creata la creata City è tutto un mito di City ed è un segno del suo gigantismo culturale e di quanto ci sono gestioni perché diciamo è un uomo di straordinaria intelligenza è un grande scrittore nessuno sta negando questo però non insomma fate un passo indietro quando lo leggete non prendetelo troppo sul serio perché è estremamente parziale e poi è sempre un cicero prodotto sua cioè lui ha la sua idea di letteratura che difende polarizza e costruisce questi menti che però non possono avere validità storiografica uno perché lo stesso City non sta sotto la categoria del sitismo i suoi libri migliori che poi sono quelli autofinzionali diciamocelo tutto i suoi libri migliori hanno una complessità che secondo me quando si è messo a fare il romanziere romanziere ha avuto più difficoltà a conservare e negli ultimi soprattutto si vede questa difficoltà lo stesso Saviano nell'unico libro bello che abbia scritto perché siamo onesti è solo il primo Gomorra che mentre deve essere letto pur con tutti i suoi limiti perché effettivamente è un libro che ha dei limiti però in realtà c'è una complessità che non si riduce solo al pur impegno ma questo sito per primo quando scrive di Saviano lo vede cioè c'è un'ambiguità c'è una suggestione del male perché il personaggio Roberto è palesemente suggestionato da questo mondo di malavitosi che articola il discorso e impedisce di scadere in una semplice parenesi del fate i buoni e non diventate camorristi quindi questa dicotomia va decostruita negli stessi autori che implica e poi ci sono tanti autori che non non entrano lì dentro allora Barbara Città Bagnarnot che come sa anch'io amo molto certi libri di Trevisan di Falco di Moresco mica stanno in questa in questa dicotomia in genere un buon libro è precisamente un libro che non si lascia intrappolare in queste categorie neanche negli stessi autori che citavamo casomai c'è un altro problema che la mitologia di Citi mette in luce è un po' falsa quello di cui stiamo parlando in ultima analisi è la differenza tra una letteratura chiamiamolo così highbrow e una letteratura mitkalt perché in realtà la vera bestia nera di Citi non è semplicemente solo l'impegno è proprio il mitkalt c'è quel tipo di letteratura scritta in maniera piuttosto in colore o tutta uguale che vuole dare ai propri lettori quello che Montare chiamava un massaggio psichico cioè ti conforta nelle tue nelle tue debolezze ti dà un po' di ti dà l'identificazione una bella storia e cioè tendenzialmente ti lascia così come eri mentre lui di fatti vuole fare una letteratura che ti turba ti sconvolge ti fa vedere quello che non dovresti effettivamente da questo punto di vista il problema c'è è vero che siamo invasi da un'enorme quantità di letteratura mitkalt povera e il problema di questa letteratura è che è povera ma non è povera solo perché è scritta male perché questi vanno a capo ogni frase o perché hanno un lessico miserevole o una sintassi da far venire alle ginocchia è povera perché povera di vita povera di esperienze povera di problematicità è questo il vero problema da questo punto di vista però rispondere a quella povertà arrampicandosi sulle vette imperie dell'immoralismo come dicevo prima ma non mi sembra che sia la migliore delle idee ci sono anche scrittori tacciati di mitkalt perché poi il problema del mitkalt è che si confronta con una cosa vera e con una cosa che è dentro la tradizione del romanzo cioè confrontarsi con generi di narrativa popolare secondo me la migliore Elena Ferrante tanto per citare una scrittrice spesso deprecata e appunto accusata di essere povera in mitkalt la migliore Elena Ferrante riesce a confrontarsi con quel tipo di letteratura bene un libro che secondo me è decisamente bello come La figlia oscura e ampie cose della trilogia dell'amica geniale anche come progetto in realtà insomma lei racconta in maniera adeguata certi conflitti reali che hanno attraversato il nostro paese e soprattutto una certa condizione delle donne quindi da questo punto di vista uscire da questa dicotomia è possibile lo dicevo prima ogni scrittore oggi si confronta con l'immaginario mediatico ma secondo me deve essere anche il suo mestiere il problema è appunto avere una relazione dialettica con quello con il materiale di storie che costantemente ci viene addosso non si può rifiutare a priori e neppure gli si può andare dietro supinamente come se non ci fosse nient'altro un buon libro secondo me è uno che sa fare tutte e due queste cose cioè che sa confrontarsi con qualche cosa che riguardi tutti perché altrimenti davvero non vedo perché dovremmo leggere questi libri e però ti dia qualche cosa di più perché altrimenti cosa me lo faccio questo qualche cosa di più non è un valore semplicemente formale perché è scritto bene tra l'altro Siti questo lo dice esplicitamente il suo problema non è la bella scrittura figuriamoci è un di più di conoscenza e anche questa è una cosa che dice Siti Siti rivendica il valore di conoscenza della letteratura di fatti benissimo però poi bisogna vedere dove, come e se lui stesso ci arriva accade in modi diversi a seconda dei suoi libri è la messa in forma del mondo che conta quindi il modo in cui lo ritagli in cui lo rendi più o meno complesso e poi dopo lo esprimi in parole determinate cose ma fa tutto parte di questa formalizzazione del contenuto no ma da questo punto di vista Siti che appunto è un uomo di quell'intelligenza di quella cultura lo sa benissimo che il problema non sono le belle parole lo dice esplicitamente quello che lui un po' perde è a volte la complessità morale cioè a volte quello che si perde soprattutto nei suoi ultimi libri è non la complessità dei cattivi perché quella c'è sempre ma il fatto che i buoni non sono mica sempre solo dei cretini se leggete la bontà la bontà viene presentata come quel poveretto che insomma alla fine viene licenziato e se lo piglia in casa forse non è solo questo cioè forse il tentativo di costruire delle vite degne non è solo una cosa naif o da poveretti in ultima analisi come dicevo il problema di Siti e di queste situazioni è il nichilismo cioè il pensare che ma in fondo no per carità non c'è nessun valore da nessuna parte quindi costruire delle vite degne può essere tutta più un atto estetico ma etico proprio no ecco mi sembra un'ideologia povera alla fine cioè nella sua provocatorietà non vede che in realtà i problemi con cui tendenzialmente abbiamo a che fare tutti i giorni sono proprio questi cioè intituire rapporti giusti con gli altri e con noi stessi e questo non si può esaurire in una posizione così di estetica della vita perché altrimenti o della scrittura si vive poco ecco si vive al 5% vedo che c'è un'altra mano alzata Elisa Ambrosiani può prendere la parola buonasera buonasera io ho avuto aver bisogno di un piccolo chiarimento in merito a simpatia e empatia ne parlava prima il professor Donna Roma perché sentendo facendo una riflessione sul termine simpatico a me viene subito in mente Smith Adam Smith famoso siamo in ambito economico però insomma quando con la teoria dei sentimenti morali lui comincia a parlare di simpatia mi chiedevo se non fosse proprio questo il termine o l'ambito nel quale ci si riferisce perché la considerazione che me ne nasce è anche la presa di posizione del termine invece immaginazione nel senso che il giudizio morale implica una distanza e questa distanza è data sì dalla simpatia nel senso che insomma mettersi nei panni degli altri però senza cancellare la nostra separatezza insomma e questo è più o meno la stessa cosa che fa l'immaginazione intesa nel senso di Smith ecco lo sto intendendo in questo senso nel senso di allontanare le cose troppo vicine e avvicinare quelle quelle lontane ecco e quindi mi chiedevo quale fosse il ruolo dell'immaginazione all'interno di un giudizio morale come sospensione fra un confine fra di ciò che è dato che dovrebbe essere e ciò che invece è in effetti e quindi produce un giudizio morale in questo caso o comunque un giudizio che può essere giudizio verso l'azione o verso il sentimento io credo che meglio Barbara possa rispondere a questa però te l'ha chiesto a te no dopo ci torno però sulla sulla questione intanto della terminologia è una storia lunga che risale più o meno al al 700 in cui si comincia a usare soprattutto il termine simpatia inteso sia come identificazione che come vibrazione con l'altro che poi secondo me è il modo più intelligente perché l'empatia nel modo in cui la concepiamo oggi è proprio la pretesa di entrare nella testa nel cuore dell'altro e di sentire le cose che sente e quindi in un certo senso di farcene anche carico e di soffrire con lui o con lei o di gioire con lui o con lei e questa è una forma abbastanza immediata di identificazione la simpatia in senso più largo è il fatto che noi vibriamo o reagiamo rispetto al comportamento delle altre persone o anche alla loro spesso apparenza fisica con delle reazioni immediate di rigetto o di simpatia nel senso letterale del termine cioè mi fa simpatico cioè mi piace poi alla fine è una sorta di giudizio estetico trasposto alle altre persone e il modo in cui lo usava quindi le due cose i due concetti hanno avuto poi una storia leggermente diversa il modo in cui lo usava Smith ha molto a che fare con la questione del giudizio morale e forse anche il modo più interessante per esemplificarlo cioè Smith capisce che attraverso l'introiezione della diciamo mettendoci dal punto di vista di uno spettatore che guarda le nostre azioni noi da un lato sperimentiamo una distanza quindi rispetto a quella immediata anche aspetto passionale e di coincidenza con i nostri interessi che ci fa dimenticare tutto il resto del mondo e vedere soltanto quello che noi in quel momento vogliamo realizzare quando noi proviamo a fare l'esperimento mentale di guardarci con gli occhi degli altri lui dice automaticamente assumiamo la posizione di un giudice un po' più equo perché vediamo la situazione magari vedendo effettivamente che ci sono altri interessi in gioco e che il nostro non era l'unico addirittura questo ci permette di giudicarlo e sulla base dell'estensione progressiva di questa specie di meccanismo morale lui di fatto fornisce un modello di autocritica dell'egoismo e dell'amor proprio che è connaturato all'essere umano cioè lui dice senza passare per la religione senza passare per il rispetto delle autorità ma semplicemente usando le risorse dell'intersoggettività noi non siamo condannati a far sempre il nostro interesse in maniera cieca ma in realtà abbiamo una tendenza a autocorreggerci data dalla struttura sociale in cui ci troviamo e quindi anche in un certo senso a conformarsi poi alle aspettative sociali perché c'è questa idea della riconduzione del singolo e in questo luogo effettivamente ha un ruolo molto importante l'immaginazione perché è la a parte che è perché è quella che permette di uscire da se stessi e di immaginare di prendere il punto di vista dell'altro e anche di poi dopo estendendo la diciamo il meccanismo di continuare si chiama infatti immaginazione morale Marta Nussman ha scritto delle cose su questo molto buone insomma sul fatto che sia la componente essenziale sia del giudizio etico che della lettura che del nostro rapporto con la finzione ed è su questa coincidenza che lei poi fa come dire fa leva cioè se tu sviluppi l'immaginazione morale leggendo tanto leggendo delle cose buone automaticamente si pensa che la tua capacità di giudizio ne venga diciamo come una ginnastica il principio di per sé secondo me è abbastanza giusto salvo il fatto che lei pensa che automaticamente la conclusione sia quella verso il meglio e non magari puoi anche diventare più abile a giustificare le tue storture sì ma voglio dire i grandi psicologi poi spesso sono persone magari grandi manipolatori proprio per questo perché hanno imparato a immaginare le vite degli altri e non necessariamente nello scrittore e nel lettore devono essere delle persone più buone però appunto sì direi che uno dei fondamenti di tutto il discorso di oggi è proprio una difesa dell'importanza di prendere sul serio l'immaginazione morale nelle sue due declinazioni insomma come strumento di vita e come strumento di rapporto con la di rapporto alla finzione ma Raffaele tu hai la tua sì no ecco il nome letterale ringrazio molto per questa domanda perché effettivamente ha accettato un punto decisivo il nome letterario dell'immaginazione è la finzione e nella finzione si può fare vedo che c'è Gloria Stratone collegata che ha scritto una tesi su questo e nell'immaginazione si può fare quello che nella vita comune non si può fare mai cioè lo scrittore può entrare nella testa degli altri che precisamente è quello che la vita comune non ci permette mai noi non possiamo mai entrare nella testa degli altri quindi la finzione da questo punto di vista non è solo un grande esercizio di immaginazione morale ma lì c'è proprio il dispositivo di quella che io chiamerei l'etica del racconto perché noi come lettori non possiamo come dire proiettarci completamente nel personaggio qual è il giudizio estetico più ovvio più banale che si dà mi è piaciuto perché mi ci sono riconosciuto allora ti è piaciuto perché non l'hai capito se pensi che il personaggio che hai visto è te l'etica del racconto è una contrattazione precisamente tra questo aspetto empatico che c'è e però anche sempre una distanza perché alla fine io devo riconoscere che l'altro è un altro che anche il personaggio letterario in cui più mi riconosco è non sono io allo stesso modo e questo sì che è un esercizio che fa bene alla vita cioè riconoscere che gli altri vanno il più possibile capiti ma noi non saremo mai loro faccio presente che le relazioni simbiotiche quelle in cui ci si illude di essere perfettamente in sintonia con gli altri non funzionano molto bene hanno sempre un punto di rottura c'è un'etica del racconto che secondo me sta precisamente in questa capacità di contrattare la prossimità all'altro prossimità non è identificazione è assoluto collimare con la distanza e questo è un principio che ispira secondo me sia i grandi narratori sia i dovremmo ispirare i lettori succede anche nei narratori in prima persona il caso tipico Marcel o il narratore che scrive la recherche ma non è lo stesso che ha vissuto i fatti di cui racconta cioè c'è anche questa capacità di autotrascendersi di vedere in se stessi un altro e anche questo secondo me è un elemento dell'etica della finzione cioè ripeto di contrattare prossimità e distanza identificazione e alterità perché in ultima misura la cosa che funziona è proprio il riconoscimento dell'alterità un riconoscimento che ha valore solo quando tu possa parlare con l'altro perché se l'altro è totalmente altro il gioco è finito ma solo se c'è una relazione tra queste due cose può funzionare e in questo senso c'è un'etica del racconto che secondo me ha un significato sì Barbara Barbara aggiungo tutto quello che dici e che condivido in pieno anche la mia personale convinzione è che persino la struttura dell'io sia basata su un rapporto di autofinzione proprio fondato sulla diciamo quella che si chiama la struttura autorappresentativa cioè che ci sia un io che ci giudica e un io che agisce e che questo sia una creazione di personaggi che noi mettiamo in scena contrattiamo con gli altri con le loro reazioni con il nostro interiore insomma che ci sia una struttura quasi drammaturgica nella creazione della soggettività e quindi figuriamoci se la letteratura che mette questa diciamo che moltiplica questo effetto di risonanza non è a questo punto il principale diciamo nutrimento e per non parlare anche di tutte le altre forme di finzione insomma per cui assolutamente secondo me è una dimensione proprio creativa originaria del nostro modo di stare al mondo di cui la letteratura è un esercizio particolare con le sue forme un organo sì un organo vedo che c'è ancora una domanda Elia Faso non so se mi si sente bene perché è una cattiva connessione grazie la sentiamo no io credo ora non per richiamare la etiche dell'impegno o del neorealismo però credo che questo sia molto legato a una forte depoliticizzazione del discorso pubblico e anche di molto discorso letterario cioè c'era la la battuta di Fortini che diceva se rimane solo la morale senza la politica si può essere solo canaglie o vittime infatti mi pare che la contraposizione spesso sia questa cioè i moralisti canagli vittime di un mondo cattivo di cui tutti compiangiamo che però alla fine non possiamo cambiare allora questa cosa che diceva il professor Donnarumma mi colpisce perché è latamente politica cioè è un'arte del compromesso fra me e non me appunto e questo secondo me ci sono molti scrittori molti più di quanto ci si aspetta fra l'altro forse dovremmo fare anche un po' di sociologia nostra da homo academicus cioè che ci siamo forse abituati all'enorme risonanza accademica che hanno avuto Walter City Antonio Moresco Michele Mari e dimenticandoci di tanti altri che hanno avuto anche successo editoriale e che negli ultimi anni stanno avendo anche successo più accademico forse anche per stanchezza della moda precedente come i Pasquale i Falco i Rastello i Trevisan Trevisan è particolarmente indicativo appunto di come uno stesso scrittore può cambiare potenzialmente più intersoggettivamente più comunicativamente il contrario di quello che stanno facendo gli immoralisti cioè noi ci dimentichiamo forse che Walter City quando era giovane recensiva i libri di Francesco Orlando facendogli i pulci che non erano abbastanza marxisti quindi tutti cambiano diciamo quando ci sono forme di maggior moralizzazione e depoliticizzazione nello stesso scrittore può essere interessante anche vedere questi cambiamenti nel dibattito pubblico e superare questa dicotomia anche e per chiudere una battuta molto simile di Eraclito e di Freud cioè che Eraclito diceva quando si sogna o ciascuno vive nel suo mondo e quando siamo svegli tutti viviamo nello stesso mondo si rischia un rovesciamento antropologico cioè ora ci riconosciamo perché abbiamo tutti gli stessi incubi invece del mondo di veglia e ci riconosciamo nel raccontarci le nostre ossessioni e le nostre perversioni sia moralista e non nel dire come raccontano Pascale o Rastello quel singolo signore senegalese deve prendere un documento come succede oppure invece di parlare di decolonizzazione si parla dei problemi concreti di queste persone appunto e c'è maggiore intersoggettività grazie a questo intervento volete commentare il problema il problema è che la decolonizzazione riguarda in toto le strutture della nostra cultura nessuno scrittore oggi ha un qualche sistema ideologico politico a cui fare riferimento e categorie di questo tipo Saviano tanto per citarne uno ma Saviano ragiona per categorie morali il bene il male il giusto l'ingiusto ma non per categorie politiche la legge la legalità quindi quello che lei ha visto Faso è sicuramente molto reale ma riguarda non l'atteggiamento degli scrittori secondo me ma proprio la condizione degli scrittori e della cultura oggi cioè non abbiamo categorie politiche nessuno scrittore di oggi nessun intellettuale di oggi che possano legittimare il vecchio discorso di Fortini ed è assolutamente vero come diceva che effettivamente qui siamo divisi tra canaglie e vittime perché l'atteggiamento vittimario è molto diffuso c'è il libro di Giglioli ovviamente ma è molto diffuso nell'autorepresentazione letteraria e tra l'altro gli stessi moralisti fanno questo di sconvolgente che tendenzialmente assumono il punto di vista non della vittima ma del carnefice quindi del pedofilo del nazista del violentatore come succede in americano il psycho e via di questo passo il problema ripeto è nelle cose cioè le categorie del politico non sono categorie operanti presso questi scrittori loro non possono pensare come Fortini perché quel mondo non è il nostro no Barbara no stavo pensando non ho una sono venute 5 o 6 risposte diverse nel frattempo le ho cambiate non da un lato come dire stavo pensando questa tendenza a pensare questo è un po' italiana proprio che la politicizzazione sia essere stati cioè essere marxisti e quindi vedere di fatto no nel rovesciamento radicale mentre io invece soprattutto a Parigi però quindi non posso testare la differenza con i studenti francesi diciamo io ho generazioni di studenti ormai pienamente woke per usare una categoria oggi cioè letteralmente sono i risvegliati e sono diciamo quella generazione di ventenni trentenni trentacinque anni che che si riconosce nell'intersezionalismo ecco possiamo chiamarlo così ossia quella visione postcoloniale ecofeminista e post non la chiamerei marxista perché di marxista c'è rimasto poco però è l'idea che sostanzialmente sia possibile rifiutare tutte le le forme di disuguaglianza e di esclusione e anche di svilimento e assolutamento della terra e la crisi climatica eccetera attribuendo genericamente una colpa a un capitalismo che però diventa sempre più astratto e sempre meno analizzato con categorie propriamente marxiste e mettendo insieme appunto i problemi diciamo della razza del genere e della crisi ecologica non so se questa cosa in Italia si sia ancora si sia ancora ben abbiatticchito però è io direi il senso comune dei miei studenti che rivendicherebbero di essere molto politici militanti quindi è una politica profondamente diversa quella a cui siamo abituati di parte ma che dal loro punto di vista per esempio ha assimilato pienamente il discorso delle scienze sociali quindi il discorso critico della riflessività del situarsi eccetera per esempio c'è una trasmissione che vi consiglio la trovate come podcast sulla una trasmissione radio ispirata alla Virginie De Ponte lei addirittura è come dire credo che l'aiuto finanziario di ai locali dove viene registrata in cui ormai sono già 50 60 puntate si chiama Le Cuglie sulla Table cioè letteralmente metti i coglioni sul tavolo che a modo di dire tira fuori le palle in francese e che è in realtà una incredibile operazione di decostruzione collettiva delle categorie complementari di maschilità e di femminilità con inviti a sociologi scrittori opinionisti di vario genere io quando l'ascolto per esempio c'era una puntata sul male gaze lo sguardo maschile nei film eccetera e sono rimasta impressionata dal fatto che dei discorsi che effettivamente sono abbastanza accademici o comunque proprio dei cultural studies siano ormai arrivati a un livello di divulgazione che viene diciamo lo ascolta il cittadino comune lo ascolta mia sorella che non ha fatto l'università ma che mi diceva di avere quindi io ho l'impressione opposta che ci sia una diversa forma di politicizzazione ambientale molto diversa appunto da quella tradizionale non soltanto legata ai partiti ma insomma anche all'idea di una rivoluzione messianica radicale e che passa dalle strutture produttive ma che ha appunto una componente culturale molto forte come dicevo prima cioè l'idea di rivendicare che le classificazioni sono gli stereotipi sono nocivi e che comunque ha una componente se non distruttiva abbastanza abbastanza virulenta che si diffonde quindi non lo so se la se la i punti di vista il fatto che comunque inevitabilmente non le situazioni culturali in singoli paesi anche europei non sono perfettamente contemporanee a livello dell'importazione di discorsi e di diffusione anche di sentire va detto che noi abbiamo anche dei colleghi che lavorano molto per esempio sui temi dell'ecologia Carla Benedetti lavora su questi temi da anni e lo scrittore con cui le spesso dialoga Moresco anche lui si sta muovendo su questo piano è difficile rispondere non credo dovrei ne posso farlo io sui nostri studenti che peraltro sono qui io ho l'impressione che dipende molto dal tipo di studenti di cui parli sì c'è più sensibilità nei confronti dei temi che tu citavi ma non mi sembra che sia che questa diventi una richiesta per esempio o una rivendicazione cioè non in genere poi davvero dovrebbero essere loro a parlare in genere non percepisco per lo meno insegno per lo più studenti della triennale in loro non percepisco rivendicazioni di questo tipo anzi al contrario a volte mi trovo nella posizione opposta di essere io a invitarli a riflettere su questi temi ma di loro non sembra che queste cose come dire abbiano questo aspetto proclamato o richiesto dipende però da tante variabili un altro autore per esempio che viene identificato di fatto con una posizione politica pur essendo discutibile classificare in questo modo sono quasi tutti i fucoltiani per esempio i miei studenti o comunque tutti assimilato quel tipo di diciamo sguardo nei confronti del potere diffuso della sorveglianza della resistenza attraverso forme di soggettività alternative diciamo gli ultimi scritti di Foucault insomma è quello che lui chiamava l'estetica dell'esistenza eccetera quindi però è vero che appunto gli studenti delle call sono militanti e critici per natura quindi probabilmente hanno una visione limitata bisogna fare un confronto ma qui apriremo delle caratte con gli studenti a Pisa della scuola normale che sono una posizione analoga però se pensiamo invece come dobbiamo fare agli studenti dei nostri dipartimenti quella è una situazione molto più complicata poi cambia molto dai corsi di studio cioè gli studenti di lingua non sono come gli studenti di lettere o come quelli di filosofia o di storia cioè hanno etos ete anzi per il plurale diversi cioè hanno atteggiamenti interessi un modo di rapportarsi alla vita accademica e alla vita pubblica che sono molto diversi e quindi c'è qualcuno che vuol dire qualcosa perché sarebbe interessante infatti vediamo che loro vogliono dire qualcosa allora vedo Giulio Milone prego mi sentite ce la sentiamo ok allora buonasera innanzitutto a tutti grazie un attimo per gli interventi io in realtà ho alzato la mano perché sono stato stimolato dall'ultimo intervento di Barbara Carnevali circa la la walkness se così si può dire delle nuove generazioni di studenti e a me pare in realtà che la il gli effetti della walkness si riflettano comunque cioè possono essere ritrovati in ambito letterario sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda l'atteggiamento degli autori e delle autrici che si interessano a questioni che sono che hanno a che fare comunque con una faccenda di morale nel senso non magari nel senso di temi immorali come magari possono essere quelli di cui abbiamo parlato questa sera ma magari proprio del fatto di essere più o meno brave brave persone che è qualcosa che almeno in una parecchia narrativa o fiction contemporanea recente anglofona io sono un anglista e tendo a ritrovare nel senso che spesso e volentieri mi trovo davanti a dei romandi dove sia dei personaggi finzionali passano spendono tantissimo tempo a mettere in dubbio comunque a chiedersi se siano effettivamente delle brave persone e questa cosa si riflette anche cioè viene anche espressa comunque interiorizzata o introiettata dagli autori o anche da chi scrive e questa cosa è per esempio estrettamente collegata anche con la faccenda dell'autoficzione perché ovviamente tutte queste domande sul chi sono sono davvero una brava persona sono autorizzato a sono la persona giusta per parlare per parlare di questa cosa o gli strumenti necessari o le autorizzazioni perché le autorizzazioni o comunque o i privilegi di parlare di un determinato argomento che sono le rivendicazioni appunto che questa questa data walk se così possiamo dire tende particolarmente a cuore quindi in un certo senso c'è un c'è un lato c'è un aspetto diverso della moralità che magari non è stato toccato stasera ma che comunque almeno per quanto mi è capitato tendo a mi è capitato di riscontare puoi fare gli esempi di questi dei testi o delle cose a cui pensava allora l'autoficzione di Ben Lerner per esempio quindi parlando di Living the Social Station che dovrebbe essere un uomo di passaggio ma anche 1004 che dovrebbe essere nel mondo avvenire e poi l'ultimo che è Topic School che è omonimo sono tutti editi da Sellerio e domande del genere appunto secondo me se le ha anche fatte le ha nominate prima anche lei Richard Kask nella Tridogia e anche appunto nella fase dei memoir dove appunto lei si chiedeva che cosa o cosa fosse una buona madre cose del genere domande del genere se le poste anche in forma di autoficzione anche per esempio Sheila Hattin sia in How Should A Person Be e anche in Maternità che sono sempre comunque edite da Sellerio e per fare un esempio finzionale e forse qua il professor Donnarumma lo chiamerebbe direttamente Mikkalt a me vengono in mente i romanzi di Sylvie Rooney per esempio dove i romanzi io ho pensato sono quelli quando le ha parlato allora Sylvie Rooney autoprogrammata marxista e in realtà chi è appassionato di Sylvie Rooney la definisce comunque trova il marxismo nei suoi romanzi cosa che a mio avviso non è particolarmente riscontabile semmai da parte di Rooney riscontra anche a un certo atteggiamento ironico nei confronti dei suoi personaggi o nel modo in cui fa parlare di alcuni argomenti ai suoi personaggi e quindi nel senso mi viene in mente per esempio alcuni passi del primo romanzo cioè di Conversation with Friends dove a un certo punto la protagonista si domanda se sia lecito effettivamente avere una avere una avere una relazione una relazione con un uomo sposato e appunto tutte le domande che queste 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 imbettive contro per esempio cioè il capitalismo in generale o i sistemi o la politica che rimangono sempre a livello a livello superficiale e sono presenti anche per esempio nell'ultimo romanzo quello che è uscito all'inizio del mese dove appunto in uno scambio in uno scambio epistolare tra le due tra due delle 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 protagoniste le protagoniste si chiedono ma cioè di fronte a questo in questo mondo che è completamente devastato dal cambiamento climatico dalla situazione politica dal capitalismo tutte cose che vengono nominate in maniera assolutamente generale senza andare appunto nello specifico loro si domandano ma in questo clima perché noi siamo talmente interessati alla vita emotiva ai sentimenti perché siamo nostalgici della bellezza del mondo quando in realtà il mondo fa schifo sostanzialmente però appunto sì cioè per questi sono gli esempi che mi sono venuti in mente volete reagire c'è comunque ancora un altro intervento di Elia intervento tra l'altro prima che intervenga Elia questo intervento tra l'altro è già una risposta a quello che chiedeva vaccino se ci sono scrittori che si smarcano da questa dicotomia e sì certo ci sono prego Elia telegrafico non volevo fare la figura del vetro marxista cioè io credo che per alcuni scrittori anzi siano molto più efficaci Weber quando parlava di etica della responsabilità invece che etica delle intenzioni e quindi capacità appunto di andare al di là del dell'integralismo morale verso invece una capacità di compromesso e quindi latamente molto latamente politico e non volevo appunto che la politica fosse solo quella marxista e le altre Habermas con la razionalità argomentativa appunto che poi su tutte cose che mi hanno insegnato il professor Donnarumma e la professoressa Savettieri quindi le devo loro però cioè mi sembrano efficaci per parlare di alcuni di questi scrittori che si smarcano dalla dicotomia cioè fare lo sforzo in un mondo complesso di recuperare il meglio di una tradizione appunto laico-illuminista che tiene conto del dialogo con le alterità appunto meno culturale meno morale ma più legato a situazioni concrete di diritto in cui teniamo tutti conto delle nostre debolezze senza che queste debolezze ci impediscano di fare qualcosa di meglio Walter City racconta i suoi romanzi ci fanno nei dipartimenti ci si scanna e poi si mette l'amante di Y alcuni di questi scrittori dicono con tutte le mie debolezze con tutte le mie incapacità quando potevo fare qualcosa con il mio libero arbitrio o con un paio di persone in cui mi fidavo non ho lasciato che venisse messo l'amante ecco questo senza marxismo c'è una una piccola cosa che volevo aggiungere perché in realtà un problema intorno al quale questi scrittori ci fanno riflettere è la possibilità del giudizio gli moralisti ti fanno capire che il giudizio è illegittimo perché cosa stai a giudicare ma non ne vale neanche la pena perché ogni giudizio soprattutto se ha delle categorie morali è un po' limitativo un po' sempliciotto invece dagli scrittori di cui si parlava negli ultimi interventi emerge il fatto che a volte il giudizio è un dovere certo che è difficile dare un giudizio e che il giudizio deve essere problematico sottile e soprattutto non rifriggere categorie già fatte e non imporre a tutti le risposte più banali però la necessità di dare un giudizio di riflettere sul giudizio è quello che viene fuori in questo tipo di scrittori io credo che i moralisti facilmente buttino con l'acqua sporca del giudizio moralistico o sciocco il bambino della necessità di essere fatte nelle condizioni della vita del giudizio e questa sì che è una condizione politica cioè il giudizio ci viene chiesto ma una donna islamica è tenuta a comportarsi in un certo modo oppure noi in quanto occidentali dobbiamo garantirle un certo modo di liberazione quando arriva da noi il giudizio noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo tanto più urgentemente in una cultura in cui i criteri di giudizio sono così molteplici ed è così difficile trovare una mediazione il problema però non può essere eluso non si può dire che il giudizio immediatamente va screditato come un'operazione semplicista rozza e di imperialismo culturale non so Barbara tu cosa pensi appunto sono d'accordo tant'è che è vero che la che la questione del liquidare lo stesso fatto di provare a esercitare un giudizio è ritenuto come un'attività insomma un po' da appunto da pacchettoni o da se la riflessività stessa cioè il fatto di porsi i problemi fosse già un atto di violenza nel confronto della vita degli altri che viene classificata che viene giudicata mentre invece credo che quello che viene rivendicato cosa? e questo poi è proprio il senso comune non giudicare io non giudico gli altri e certo perché è troppo difficile farlo ma il problema è sforzarsi di farlo senza ovviamente imporre agli altri la banalità del giudizio ma io credo che l'obbligo del porsi il problema del giudizio non del dare una risposta ma questo non sia erudibile la migrizia del non do giudizi no non devi fare lo scrittore per dirci che non dai giudizi infatti uno degli aspetti che mi piace dell'operazione di Recep il casco che per altri versi dal punto di vista narrativo è un po' stratta eccetera è proprio che lei non emette mai giudizi ma di fatto obbliga al lettore nel modo in cui rapporta e riporta le conversazioni avute con gli altri a giudicare queste persone e a fare quello che non fa lei con grande grazia perché di fatto è un invito all'autonomia della persona e volevo dire un'altra cosa a proposito della questione politica ho capito anche che cosa all'inizio mi aveva mi aveva sorpresa è che io in fondo ho sempre pensato che quel brano di Adorno delle note sulla letteratura in cui dice che solo i filistei che non capivano Proust gli rimproveravano di essere uno snobbone che parlava soltanto di feste e di inviti nei salotti appunto in un momento in cui si sarebbe potuto parlare di destini molto più collettivi e in realtà Adorno diceva che paradossalmente era il tema più politicamente meno politico di Proust che era pronto lo snobismo l'estetismo dei salotti della fine dell'Ottocento che toccava il nodo della persistenza dell'ansia regime dei rapporti tra classi del fatto che la nobiltà continuava ad essere la classe gemone e quindi orientava il sistema di valori della collettività cioè che Proust aveva con la sua grandezza diciamo sociologica e descrittiva senza mai anzi identificandosi in un certo senso con i fruttori di questo tipo di mondo in realtà dava al lettore degli strumenti conoscitivi e storici e politici di primaria importanza poi ci sono stati storici che hanno detto che quella della descrizione di Proust era quasi più vera del vero Arno Mayer nella persistenza dell'ansia regime fino alla prima guerra mondiale quindi appunto in realtà la dicotomia politico non politico se riguarda semplicemente il fatto delle opinioni esplicite dell'autore o il fatto che ecco forse sulla guerra e pace è riuscito il miracolo di mettere dentro tutto la vita privata e la guerra e Napoleone e i sentimenti ma se no secondo me si può essere paradossalmente molto politici anche raccontando molto bene delle situazioni private non so se sia poi quello che effettivamente riesce a fare la Runei però l'idea di per sé non ha nulla di sconvolgente insomma e l'intensità che conta anche il fatto di andare a toccare evidentemente magari dei problemi di forma della soggettività contemporanea che sono di fatto politiche perché poi sono quelli che sono le persone che scelgono i loro rappresentanti quindi è tutto come sempre l'importanza dell'intensità e la l'acutezza dello sguardo non è l'oggetto scelto che legittima di per sé l'operazione ecco questo sarebbe facile magari tutti faremo queste cose e peraltro il mestiere del romanzo un'ultima cosa è precisamente raccontare queste soggettività cioè piuttosto un po' un vizio di molti scrittori italiani di farci di spiegarci come va il mondo no ma il mestiere dello scrittore del vero narratore è proprio confrontarsi con le soggettività e è lì che il romanzo può fare di meglio e che veramente può dirci qualche cosa allora io direi se c'è ancora un'ultima domanda o un ultimo intervento lo prendiamo se no essendo le sette e mezza ci fermiamo qui c'è qualcuno che vuole ancora intervenire o aggiungere qualcosa o chiedere qualcosa sembrerebbe di no non ci hanno detto però loro come la pensano faccio allora un altro esempio perché mi è venuto in mente di politici del privato cioè le scene di Gita Alfaro in cui Mrs. Runs e il marito a tavola si comportano completamente in maniera diversa lui che parla solo della sua vita pubblica della sua cosa universitaria su impegno politico e lei guarda il figlio vede se gli ospiti sono stati serviti cioè si occupa diciamo della cura della situazione è una critica alla divisione del lavoro dei ruoli primari tra maschile e prefemminile una delle cose più potenti che ci siano proprio a livello di movimento femminista che molto di più magari della descrizione della storia di una suffragetta o di una femminista impegnata cioè appunto la letteratura ha questa capacità straordinaria di scardinare il tutto col dettaglio quindi io direi che non appunto non trarrei delle conclusioni immediate sulla certo c'è una spoliticizzazione dell'impegno esplicito di scrittori che non sono più tutti diciamo non votano più tutti per lo stesso partito anzi che non hanno delle opinioni spesso divergenti anche quando fanno parte dello stesso schieramento però insomma secondo me la politica si intende in tanti modi ecco non necessariamente in modo lì che non so neanche se sia stato poi così benefico infatti si tratta poi di riconoscere che ci sono forme di politica e di politicità che sono diverse nel contemporaneo vanno appunto assunte per quello che sono ascoltate capite se no rischiamo appunto di continuare a usare categorie vecchie che non ci consentono di capire quello che abbiamo attorno allora se non ci sono altri interventi se non volete fare una battuta finale o chiudiamo qui ok allora grazie mille a Barbara a Carnaval grazie a voi grazie a Barbara agli studenti e alle persone che sono intervenute infatti grazie anche a Raffaele Donnarumma e a tutti gli intervenuti questo seminario è stato registrato quindi potete eventualmente condividere il link con dei compagni di classe eccetera compagni compagni di classe diffonderlo io lo metterò poi sulla pagina del corso immagino Raffaele farà lo stesso così se qualcun altro volesse recuperare indifferita abbiamo la registrazione bene allora buona serata a tutti e grazie interrompo la registrazione grazie ancora buona serata buona serata ciao